Mazzoli è pronto Sì, mi chiedi poco Sì Sì No, rimane, rimane Allora, senti vabbè, ma i soldini di ieri, quelle 5 sacchetti, li sta facendo fruttare o che cosa? Sono in banca e stanno fruttando Tipo l'arberi, ma c'ha i fruttetti C'ha i fruttetti 12-105 Ciao Mazzoli, ciao Quanto state indietro? Voi non sapete Guarda guarda Io Che peccato Ma veramente Guarda Sei costretto tu a dirlo Diciamo che magari vuoi uccidermi Davide Allora Mo sta dicendo Cassate Cassate Nel pallottaggio Cassucatemela Sono felice di poter parlare Nella ringa Perché Confermo che O Melio Sergio Nel lupo E il fatto che loro abbia votato Sergio Che come al frate Non capisce un cazzo Mi potrebbe far pensare Che l'altro lupo è meglio Loro in realtà Semplicemente Ti hanno messo Le streppe Mediodele incluse Quindi semplicemente No Sergio sono villico E muoio felice Perché mi chiederai Stammato i piedi da soli E io sarò felice Che tu morirai E basta Con i lupi Chi cazzo vuole essere Giustiziere Chi cazzo vuole essere Bello ma io ero villico quindi Che cosa lui Go Madonna che ritardo Ma ci vedrà Ma che stai a fa Ricordate Che i squali Sta ne arrivà Hello Attenzione c'è qualche problema La gamma è spenta Closhars E benvenuti In questa nuova Trasmissione I Lingus Esatto Detto ciò consigli The Whale E tu come ti chiami invece? Lingus Lui è Cunni Lingus Tu sei l'altro Lingus Pussy Slayer Che cazzo Il Cunni Virus Il Cunni Virus Oppure Conni Virus Conni Lingus Non è un problema Ciao a tutti Tutto bene Tutto bene C'è un po' troppa luce Luppi Lingus Sborlingus Pussy Lingus Non è male Non è male Voi come state ragazzi Tutto bene? Io benissimo Si è staccato il cavo Ho appena scoperto Di essere un miracolato Grazie ai commenti sotto Un freebooting di Lo Spero Bellissimo Bellissimo Mi hanno ricaricato qualche minuto Della live di oggi In cui facevo un discorso normalissimo Sulla carriera di streamer Mi hanno detto che Sono miracolato Eh parli tu Vabbè Io penso che Come sia un complimento Non lo so guarda C'è una persona che riceve un miracolo Secondo me È un complimento Magari Magari L'unica differenza tra Davide Marra E Lorenzo Fajon È il fatto che lui Abbia un progetto Già avviato Ma se su una persona Da chi? Da noi tre? Avvengono Già avviato da se stesso Sì sì Se su una persona Avvengono dei fatti miracolanti Invece Intorno ad altre Succedono solamente Dei fatti tetri Oscuri e imbarazzanti Sfortuna Ce le vogliamo fare due domande O no? L'ombra del gramo Ma questo studio Questo studio Questo studio È il frutto Di un miracolo Che però Non toglie il fatto Che dietro C'è stato tanto sangue E sudore Però siamo Se voi vi guardate Allo specchio Potete vedere Anche in esso Un miracolo In quanto siete Uno spermatozoni Su tantissimi Capito? È tutto quanto Un miracolo Forse per alcuni Quello è stato l'unico Per noi no È poco da fare Non è Anche Hanno Anche provato La carta Appoggiarsi a qualcuno Tipo Vabbè Senza di numerevoli Che si appoggiano Alle varie lore Visto che ci sono personaggi Che abbiamo citato Tipo che ne so Rospo Questi sono appoggiati A social boom Che aveva già più notorietà De loro E attivamente Cercava di lanciarli Anche per motivi Contrattuali Il fatto della Sally Per tutto quanto Quindi Se non li hanno fatta Cioè deve essere motivo Quindi Che vedevo dire Ma nel senso Non è che poi c'è Godo Che non ce l'hanno fatta È proprio un dato di fatto Anzi spero che Ce la facciano Un giorno Speriamo che anche per loro Accadrà Un miracolo Proprio Pari P-A-R-I Tra l'altro sono quasi finiti I VIP Controllato oggi Erano mi pare Una decina Quindi Se già l'uno Ha presi due Magari l'hanno presi altri Forse sono già finiti Non lo so Controllate L'ultima volta Che avevo visto io A parte che Visto che arrivano le mail Non riusciamo neanche a capire Perché molti Magari con un email sola Ci stanno all'interno Più di un acquisto Magari È capitato pure due Che hanno preso VIP E un altro normal C'è un po' un miscuglio Vector dice Uno l'ho preso Ora Buono Vector Dai dai Vector vero Infatti sono contento Dai così ci becchiamo Ma specialmente per i VIP Specialmente per i VIP Come è successo Anche per altri parti C'è il rischio Che dopo pochi giorni Poi terminino Quindi poi Non sappiamo Se possiamo poi Incrementare il numero Però visto che ne mancano pochi Già ne stavamo parlando Però quello che possiamo consigliare È la rapidità Qualcuno ci chiedeva Anche minorenni Maggiorenni Perché in alcuni parti I minorenni Non ci saranno minorenni disponibili Per i VIP Esatto Esatto No no Possiamo farlo È una roba contro legge Però No no Potete venire Anche se minorenni Come al solito Ci sarà Ci sarà un braccialetto Un marchio A sangue Per la questione drink Però Questo riguarda i VIP Perché Diciamo che La pericena È per i VIP Prima Ovviamente l'alcol Non sarà servito ai minorenni Però per il resto Tranquilli E poi vabbè ci sarà L'after party Ma sempre per i VIP Quindi sì potete venire Ovviamente se siete minorenni Non vi daranno alcol Poi per chi non è VIP Là ci sono vari servizi Che abbiamo fatto mettere Sia per mangiare Sia per bere Quindi potete stare tranquilli Insomma Se mangi e se beve Con l'altro Sono tutti a pagamento Tranne la roba per i VIP Che è compresa Nel pre party Nel pre Nel posto Non specifichiamo C'è il drink Là ci sarà un bar Insomma Non dipende Ma per il fatto di drink D'arpolo gang Chernobyl party Cerbero Con Non era Darpolo gang Non era Darpolo gang Oddio qual era cheat Non vuole me Vuole me i numeri sul braccio Non era Non era Wayne No Wayne Quell'altro E Ma mi sa che era Era Pyrex E Pyrex Ah sì 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 Fiori del male Fiori del male Esatto Sì 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 Comunque vabbè Al di là di questo Quindi sono contento Di essermi reso conto Dopo cinque anni Di incredibile lavoro Di non essermi meditato Un cazzo Parliamo di due cose Importanti Oggi Questione Che c'è sta faccia No Il fatto è che Io ammiro La tua plombe La tua compostezza Sai qual è il fatto? Mi metterò in bocca Parola al posto tuo No no Che Sono Molto fiero Del mio lavoro E di quello che faccio Come al solito Mi innervosisce Chi spara menzogne Perché quelle sono Bugie A tratti anche di infamazioni Però Vabbè Sì però sai qual è il fatto Deve sapere Sì Fondamentalmente Mi frega un cazzo Però Sono otto alcuni canali Ci sono C'è una specie De Rigor morti C'è una cosa strana Capito C'è proprio Alcuni sono Dei lingus morti Però sono tutte persone Emarginate Sì Sono tutte persone Emarginate Capito Quelli là Sono persone Che sono state Estromesse In qualche modo Più che altro Mi ha sorpreso Sono state evaginate Nel senso Che sarà rimossa La vagina Dalla loro vita O persone Che comunque Se vogliono sentire Mortilingus A me A me la cosa Che piace Alcuni commenti È quella Manifesta Superiorità Di chi li scrive Che però Non fa altro Di dover guardare Ogni nostra live Perché Deve ribadire A se stesso Che è meglio di noi Fatelo comunque E fatelo comunque Perché comunque Per noi È importante Che ci guardiate A prescindere Da quello Che pensare di noi Questo è quello Che io credo Poi Le convinzioni Di molti Potrebbero essere Sfatate Con la realtà Perché molti Provano anche A fare acquisti Tecnici Per provarci Però poi falliscono Misenamente Però l'importante È provarci Ma l'altro è facile No? Non ci vuole niente Basta parlare degli altri Che c'è? Facilissimo Ma noi Ma noi Ma noi siamo miracolati Io ogni volta Io ogni settimana Per tre anni Perché Io non ho mai saltato Una settimana In tre anni Di pubblicazioni Su Youtube Io andavo prima in chiesa Pregavo E poi andavo in tendenze Era il miracolo Del signore Perché a me comunque Io sono una persona Che avete Ah beh certo Gli stai pure simpatico Perché non mi sono mai meritato Io non mi sono mai meritato nulla Io non mi sono mai meritato nulla Se vedevai video Il fatto che io Mangio ogni volta in live È perché mi hanno imparato A benedire il cibo Ah lo vedi C'è sta C'è sta Com'è? Mi piace questa Ma ripeto Ma poi non ci veniamo un cazzo Siamo solamente fortunati E dobbiamo ringraziare Il signore Dio No no Va bene così Gesù che sta qua Qualcuno diceva La fortuna aiuta Gli audaci Grazie Se voi volete rompere La nostra fortuna Dovete privarci di questo quadro Fino a quel giorno È tipo il quadro di Dorian Gray Mi dispiace Tutto il nostro potere Racchiuso in Gesù Fate che quello che vi pare Ma noi lavoriamo Ma io lavoro Madonna mia Maledetti Perché mi piace così tanto Poi com'era la parte dopo Perché non me la ricorda Per non stare con te Preferisco le mete affollate Nel mare Potremmo fare Io lavoro Per non diventare come te E poi nome di streamer A caso Beh ci potremmo lavorare Un piotere di Moderna Se potrebbe fare Magari è Bosca Grazie a Isabel Sblocchiamo tutte cose Era Una piccola postilla divertente Perché insomma Ho scoperto una cosa nuova Pensavo che Dopo i primi sei mesi Primo anno Anno e mezzo Fosse decaduto Questo falso mito Però va bene così E poi Il fatto di Non poter parlare Duicci Italia Nel senso Cioè Se non può parlare Il Cerbero O Omietol Che sono i padri Del Just Chatting Su Twitch Italia I fondatori Non so chi dovrebbe parlarne Curo Lili Moccia Sì ma Moccia è gigantesco Ma comunque Dal punto Vabbè Basta Non me ne frega un cazzo Perché tanto poi Non è che sia questo grande Just Chatter Capito Io era solo No Basta Se no poi sembra un Flexi Non me ne frega nulla Allora ragazzi Due questioni Importanti oggi Caso Fishball Fishball ha fatto una live Su Instagram Molto molto pesante Fishball non so un chezzo Allora molto molto pesante Sicuramente ti ricorderai Il discorso legato A Taxi B L'altro amichetto De Merenda Esatto Sabobulli Vabbè Quella fattispecie Taxi Minacciò il ragazzo All'epoca di Fishball Con una pistola Comincio a vedere questa live Perché ovviamente Me la mandano Diverse persone E comincio a parlare Di una persona Che inizialmente Non Diciamo Non riesco ad associare Immediatamente A Taxi E dico Strano Perché il comportamento Sembrava similare In realtà poi scopro Che Scopro Lo dice Che il ragazzo Che era stato Minacciato da Taxi Che anche lui A quanto dice Fishball Ovviamente si è macchiato Di cose Molto gravi Molto gravi Tra l'altro Fishball Parla anche Di una gravidanza Dicendo che attualmente È incinta Da diversi mesi E adesso Poi vedremo Altra questione Cimed Rap Torna Torna qui Nelle cronache Del Cerbero Dopo tanto Tanto tempo Che l'ha fatta Che l'ha fatta Finalmente Ha dovuto Toccare il cinema Per riprendere Il nostro interesse Il volettato Cimed Rap Pasolini È una merda Esatto Io sono stato Molto indulgente In questi ultimi mesi No devo dire che Ne parlavo con Anna Non è un meme Ne parlavo con Anna Perché Perché c'è questa storia Interessante Poi parliamo di Fishball Allora Cimed Rap Studio 29 E I Wonder Picture Mi hanno nuovamente Invitata ad un'anteprima Questa volta È il turno di The Whale Io oggi Casualmente Ho caricato anche una foto Dell'altro giorno Nell'anteprima La stessa Ovviamente non la stessa città Il film che ho visto Poi recensirò Domani con Giulia Ma Lei non entra Neanche nel merito del film Per il momento Ma parla della scelta Produttiva Allora Io lo dico Vai Voglio analizzare Punto per punto Sì Allora Cioè Te invitano ad un'anteprima Sì E tu già questa cosa La metti un po' Come se ci sei andata Un po' svogliatamente Però Al limite del flexing Ti sai Mi invitano ad un'anteprima Lo vuoi dire Lo vuoi specificare Poi questi ti hanno invitato Ti hanno fatto la gentilezza Di darti l'accesso ad un'anteprima E te Li tagghi Sia l'hashtag del film E questi sono gli hashtag Quelli che ti chiedono Sì sì Che ho messo nel mio post Esatto Infatti E gli smerdi il film Ma io spero che non ti chiamano più Allora Ti puoi esprimere Ovviamente sei libero Non è che T'hanno pagato Basterebbe Non di cazzate Il film è serissimo Allora Andiamo con ordine I post Con i sponsor Intendo Diciamo Magari è evitabile Sparare cazzate Andiamo con ordine Andiamo con ordine Intanto No no Questo è quello che ti viene richiesto Poi Andiamo con ordine Stai agli altri Stabilire Perché è una cosa Che mi riguarda anche direttamente Io ogni tanto Partecipo ad anteprime O magari sponsorizzazioni di film Vabbè Lo sapete Insomma Shits Creek Che ho fatto con Dario Dune Ed altre La cosa che ho sempre detto È ovviamente Nessuno Può comprare Il mio giudizio E questa è la base Quindi io Spesso Ho anche criticato Dei film Magari che sponsorizzavo O ai quali Ero stato invitato Quindi su questa cosa Per me va anche bene Il problema è il merito Ovviamente Critica nel merito Cinematocratico Non a cazzo Però La cosa è divertente Al di là poi Del film Perché qui non se ne parlerà Ok Ma ne parlerò sul mio canale Perché qui non mi ripiega Un cazzo a nessuno Io lo dico Scrive Cimetera Indipendentemente Da come sarà il film Magari Ciofeca Magari Capolavoro Parte già Con una problematica gigante Ma quella che aveva visto Quindi ancora No 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 Però parla Come sarà Parla Parla diciamo Della scelta produttiva Del casting E ci può anche stare L'attore protagonista Indossa un fat suit Ok Mi piacciono Porco Tu non sai quanto Vorrei mettere uno Una volta Per provare Tipo i Rammstein I Rammstein Ti ricordi Da che esci scherzo Ti ricordi E' uno dei miei sogni Porco Non posso mettere una fat suit Ma rimediate una fat suit Ci mandate una fat suit Ti ricordi il videoclip Meraviglioso Di Rammstein Che è in Lushed Stupendo E per me la cosa è Professore Matto La fat suit Per eccellenza No non ho incontrato E' di Marfin E' di Marfin Non ho incontrato Non ho incontrato Cimeterape Ma non credo Non credo fosse a Roma Lei Comunque Allora Partiamo Partiamo da questo Cosa significa Allora Brandon Fraser Che è il protagonista Del film Ovviamente È stato Ritoccato Diciamo così Con Del make up E degli Effetti Questa diciamo È una tuta Essenzialmente Che ti fa sembrare grasso Molto Credibile E alle volte Si applica anche Un make up Prostatico Prostatico Mi fa sempre ridere Perché mi fa pensare La prostata Prostatico Esatto Bellissimo E te trucca N'avro Infatti Sono un attimo distratto Esatto Però Qual è il punto Cioè E' sempre successo Il trasformismo Hollywoodiano Posso dire Alle volte Anche Criticabile In determinate cose Cioè Tutto quell'immaginario Hollywoodiano In cui Si preferisce Far invecchiare Un attore Non particolarmente Anziano Piuttosto che Far lavorare Un effettivo Un effettivo Un attore Anziano Per creare Quell'effetto Di shock Nel pubblico Quindi anche Il lavoro Sull'estetica Di un attore Piacciono molto I cambiamenti Estremi Dal punto di vista Fisico Vabbè Christian Bale È quello che Conoscete Tutti Quindi Perdite Di peso Enorme Guadagno Di massa Magra E va Benissimo Può Essere Criticabile In certi aspetti Anche quella cultura Quel divismo Lo scamme Nei confronti Magari di attori Non più Non giovani Oppure di un Di una determinata etnia Che soprattutto In passato Magari venivano Messi da parte Per Cambiare L'etnia Di alcuni personaggi Questo ovviamente Ad oggi avviene Molto meno A volte al contrario E fa parte Di una scelta Che è L'immaginario Hollywoodiano Che è fondamentalmente Cosa? È una fabbrica Di sogni Belli o brutti A volte incubi Di estetica Esatto E gli americani Che sono iperbolici In tutto Amano queste cose The Whale Vede Brandon Fraser Come protagonista Il film è diretto Da Darren Aronofsky Che secondo me È anche un grandissimo regista Un altro esempio Che mi viene Sempre dello stesso Darren Aronofsky È The Wrestler The Wrestler Ha come protagonista Mickey Rourke Che per il film Ovviamente Ha preso tanto peso Perché doveva interpretare Un wrestler Quindi molto muscoloso Steroidato Eccetera Anche lì Fu fatta una scelta Molto precisa Che serve anche In chiave Academy Quindi in chiave Oscar Prendi un attore Mickey Rourke In questo caso Brandon Fraser Un attore che ha avuto Una grande carriera E poi ha avuto Un grande tracollo Agli americani Piace Questa narrativa Ok L'epica Piace Cioè Ci sta Sai che comunque Guadagni dei punti Oscar Al pubblico Piacciono queste storie qui Che magari hanno anche Un effetto Una connessione Con la vita reale Pensiamo Non lo so A Rocky No? Il classico Underdog Che poi ce la fa Questo Esatto Questo è un mix Tra la realtà E il sogno Costruito da Hollywood Arriviamo al punto Sono certa Che esista Almeno un post Di belle di faccia Che spieghi Come mai Sia una scelta Discriminatoria Ora lo cerco E ve lo linko Cosa si intende qui? Cimetrape sta dicendo Perché Avete Preso Brandon Fraser Per fare questo ruolo Lo spiego velocemente Per chi non avesse visto Neanche il trailer E vabbè Facciamo verde poi L'ignoranza abissale Cinematografica Di Irene E vuole insegnare gli altri Esatto Però vabbè Il fatto qual è? Che Brandon Fraser Qui diciamo che Interpreta un personaggio Che ovviamente Soffre di disturbi alimentari È un super obeso In punto di morte Non è uno spoiler È proprio L'inizio del film E quindi Già lui era abbastanza Corpulento Ha preso ulteriori chili Per il film E in più Sono stati applicati Vari Effetti Digitali Ma soprattutto Fisici Come Questa tuta Che replica Una massa corporea Di grasso gigantesca Più ovviamente Un trucco facciale Per fare il doppio Triplomento E cose di questo tipo Qual è l'appello Di Cinematografica Perché non avete preso Effettivamente Un super obeso Per fare il film Allora Perché temore Durante i riprese Scusami Ma nel senso Ma Non c'entra nulla Se tu prendevi Una persona magra Io la gialli Non è che Te davo ragione Però dicevo Effettivamente Sarebbe stata stonata Come scelta Dell'attore Però qua Secondo me È pretestuoso L'ennesima cosa Da maestrina Che vuole insegnare Un qualcosa Che in realtà Non è minimamente applicabile Perché per la logica Che dici tu Non te ne frega nulla È l'ennesimo post Per portare avanti Sta pantomima Della quale Si circonda da anni Ovviamente Per motivi Lavorativi Però ai miei occhi Suona come una presa Per il culo Io ho una visione Abbastanza estrema Di quello che riguarda L'arte E la meritocrazia Quindi Io Forse faccio un discorso Che per alcuni Sarebbe quasi scandaloso Secondo me Se tu Hai la capacità Per interpretare Un personaggio Alla perfezione Dopo un provino Tu sei L'opposto Di quel personaggio Ma Dall'interpretazione Che è superiore A tutti gli altri Che fanno il provino Con te Anche se Gli altri hanno Caratteristiche Etniche E fisiche Più in comune Col personaggio Sistema È giusto Che trucchino te Questo è come lo vedo io Ma come nella musica Come in qualsiasi Settore Se la tua arte Visto che qua Stiamo parlando di arte Non di vita reale Se la tua arte Ti permette di fare Quella cosa al meglio E sei effettivamente Il migliore Devi farlo Ma questo è come lo vedo io E so che Può essere una cosa Non condivisa da molti Però per esempio Stavo discutendo Ho chiesto Riguardo a questo post A Marta Che ovviamente Stando Conoscendo più retroscene Nell'ambito del cinema Mi ha spiegato alcune cose E mi ha fatto riflettere Su un fatto E poi dimmi se È quella cosa Dove vuole arrivare anche tu Il fatto che Effettivamente Hollywood vive Di status Di budget E di pubblicità E di Rendere glamour Anche la La pubblicizzazione Di un film Quindi Purtroppo Per come è strutturato Anche il sistema Di agenzie Hollywoodiane È difficile Che ci sia un attore Obeso Che abbia lo status Di Brendan Fraser E ti rende il film Anche vendibile Quanto Lo possa essere Con la presenza Di un attore Dello status Di Brendan Fraser Se ci pensi Non ci sono attori Proprio per come È strutturata Un po' Lo star system Hollywoodiano E questo Forse è anche Un problema Sistemico In cui si potrebbe Lavorare A livello di inclusività Negli anni Non c'è un attore Appunto Grasso Che sia arrivato A avere quello status Perché Attori grassi Non hanno avuto Ruoli di rilievo Glamour Abbastanza Per diventare Delle superstar Perché Si fanno pochi film Che prevedano La presenza Come protagonista Di un attore grasso E non come caratterista Non prenderebbero Un attore grasso Per fare Che ne so Superman Al posto di Cavill Perché ovviamente Anche se Può esistere Tranquillamente Nella visione di Superman Un Superman grasso Perché non è che Si è allenato Superman C'ha i superpoteri Perché è un alieno Però non Te lo farebbero Un film Perché non è vendibile All'immaginario Dei bambini Che vogliono il supereroe Quindi Per come è strutturata La produzione hollywoodiana Ci stanno pochi attori Che hanno quel peso Quel peso Ma poi entra pure In quello che aveva detto Davide Sul fatto là Delle cose Che vendono di più Perché comunque L'attore Ai tempi Della mummia Era tipo Un figone Poi tutto quanto Il caracollo Che gli è costato Pure in termini Lavorativi Proprio L'ingrassamento Che ha avuto lui Poi gli è costato In termini lavorativi Quindi anche Metterlo all'interno Di questo film C'ha comunque Quella fetta là in più Che rientra su tutto Sto meccanismo di Hollywood Che stava E scrive Davide Quindi Ci stanno vari componenti Addirittura Correggimi se sbaglio Anche un Vin Diesel Che ha lo status Di macio Di Action hero Cioè Proprio lo status Come nome Non gli farebbero Fa un film Nelle condizioni In cui Viene preso per culo Sui meme Con la pancetta Così Gli direbbero Sì lo fai Però te devi rimettere in forma Nonostante lui già È quello che avviene È quello che avviene Lui sta tirato Quando fai film Quando puoi smettere Fai film Sa peccarsi i suoi Non sta tirato Diciamo che è un discorso Gigantesco Da affrontare Cerco Di riassumerlo Come posso È verissimo Quello che dici In relazione All'apparato Star System È mollywoodiano Come funziona Anche con il meccanismo Dell'Oscar Bisogna ovviamente Creare degli attori Questo da sempre Degli attori Di richiamo Ok Degli attori Che possano Portare pubblico E possano garantire Già un minimo Incasso a produzioni Che spesso Costano milioni Ok Adesso entrerò Anche nel caso Specifico Di questo film Che Sancisce L'ignoranza Abissare Di Cimetarap E anche Cimetarap Nel merito Della critica Perché in realtà È perfettamente coerente La scelta di Brandon Fraser Anche in chiave Metacinematografica Come vi dicevo prima Su Su Mickey Rourke Quindi di base Esiste In certi aspetti Può anche essere Un problema Nel senso che Crei Questo tipo Di apparato In cui effettivamente Possono Anche Entrare Tante discriminazioni Etniche Di corporatura Di età Ci sono attori Magari Grassi Obesi Sovrappeso Forti Qualcuno citava John Goodman Anche John Hill Non risponderebbe L'età Su John Goodman Al momento Il personaggio John Hill Non è obeso Al momento Ci sono Diciamo Ci sono Degli attori Di questo tipo Però sono Comunque pochi E soprattutto L'apparato Di Hollywood Non è Per forza Di cose Meritocratico È meritocratico Semmai In relazione Ai tuoi potenziali In casi Non è un caso Non è un caso Che The Rock Per molto tempo Sia stato L'attore più pagato Di Hollywood E non è Il migliore degli attori Di Hollywood Ma affatto Io lo considero A malapena un attore Figuratevi Ma anche Jackie Chan Per un periodo Quindi Dipende molto Il valore che hai Brandon Fraser Era Fino a Poco prima Dell'uscita del film Un attore Completamente decaduto Un attore Che abbiamo visto Pochissimo In questi anni Soprattutto perché Qua cito brevemente La sua biografia Lui vabbè Sicuramente Ve lo ricorderete Nella Mummia Tarzan In tanti altri film In cui effettivamente Era un figo Quindi aveva Quel tipo di status Da attore Che poteva piacere Alle donne E che poteva Far Diciamo Poteva far Un po' Sognare Sì L'identificazione Del maschio Che andava lì A vedere magari Film action E cose di questo tipo Poi Successe un fatto Molto spiacevole Una molestia Che lui denunciò Se non era nel 2018 Ma è accaduto Intorno al 2003 E Da quel momento in poi Decise di ritirarsi Completamente Da Dal mondo Diciamo Della recitazione E sì Irene Anche un uomo Può subire molestia Anche Brandon Può aver subito molestia Anche da una donna Può Succede anche questo Da un uomo Philip Burke Da un uomo Da un uomo E lui decise Diciamo Di ritirarsi Dalle scene Questa cosa Da quello che poi Ha raccontato Brandon Fraser Ha avuto Un enorme effetto Sulla sua tenuta Psicologica Quindi È entrato In meccanismi Insomma Di simile depressione Ha preso tanto peso È ovviamente Invecchiato Come tutti E quindi Ha perso Quello status Che aveva prima Sia in chiave Di vendibilità Perché lui stesso Ha deciso Di tirarsi fuori Sia in chiave Di eventuale ritorno Perché l'associazione Con Brandon Fraser Era quella Ed è quello che dicevate Su Vin Diesel Cioè è molto difficile Ad un certo punto Quando entri in quelle Logiche lì A meno che non sei Una superstar Tipo Tom Cruise O Leonardo DiCaprio È molto difficile Che tu riesca Ad avere Un grande potere Contrattuale In ruoli Completamente diversi Da quelli per cui Il pubblico Ti ha amato Poi ci sono anche Operazioni al contrario Quindi tu prendi Un attore conosciuto Per fare il super buono E gli fai fare Il super villain O il contrario Però di base Sono meccanismi Di un certo tipo Che si sono Ripeto da sempre Lo stesso Mastroianni Ai tempi Lottò Perché dopo la dolce vita Lui non era Così famoso Soprattutto nel mondo Non era affatto famoso Dopo la dolce vita Successo mondiale Venne associato Unicamente All'uomo bello Il Don Giovanni Italiano Per Antonomasia Gli proposero solo film Su quello stampo lì Lui decise Di rifiutare Moltissimi copioni Anche interessanti Anche di grandi registi Per Fare determinati film Ad esempio Dove Soffriva di disfunzione rettile Dove era omosessuale Nella gran buffa No? Una gran buffata Un ruolo totalmente antitetico È il Don Giovanni Decaduto Assolutamente Si è una gran buffata Di Ferreri Un capolavoro immenso Quello già dopo Però È una scelta coraggiosa Poi ripeto Ci sono attori Tipo Di Caprio Matthew McConaughey Che hanno assunto Un tale status Christian Bale Però sono pochi Sono come i registi Che sono Completamente Liberi Di fare anche scelte Milionari Perché il loro brand È forte Tanto quanto È talmente forte Da poter sostenere Delle spese di produzione Tipo Spielberg Cameron Eccetera Detto ciò Nel merito del film Allora Irene si lamenta Della scelta Partiamo da Un presupposto di base Quello che diceva Dave Cioè La scelta Di una produzione Di un regista In relazione al ruolo Deve Per forza di cose Essere inclusiva Questa scelta No No È un prodotto artistico E l'arte Non può Anche industriale Ovviamente Soprattutto quando parliamo Di Hollywood E l'arte Non può Sottomettersi A A questi concetti Qui che sono Sacrosanti Ma non rientrano Nel piano Di un regista Che può Scegliere Anche in maniera Totalmente Cinica Un attore E magari Farlo dimagrire Di 40 chili Per entrare Nel meccanismo Oscar Non che non sia Una scelta problematica È una scelta problematica Ma rientra Ma rientra Rientra Nelle scelte Artistiche Sono criticabili? Sì In questo caso però No Perché? Perché Brandon Fraser Come vi dicevo Non solo Aveva comunque Preso peso In questi anni Quindi Non parliamo di una persona Che è dovuta ingrassare 780 chili Per fare un ruolo O una persona Completamente fuori ruolo È una persona Che ha subito Delle angherie Per lo meno Questo dalle sue denunce Comunque ha avuto Tantissimi problemi E quindi è un personaggio Adattissimo Sembra quasi Che questi due Il personaggio E l'attore Cioè Brandon Fraser Condividano Alcune Alcuni aspetti Caratteriali Il mood Sicuramente Anche perché Poi ripeto Non voglio spoilerare il film Però si parla anche Del passato Di questo personaggio Che era un passato Diciamo Di una persona Anche Non solo felice Perché poi mantiene Quella felicità Per tutto il film Però una persona diversa Ok E lo stesso vale per Fraser Che Anche Quello che abbiamo visto Dalle sue comparsate pubbliche Anche dalle ultime vittorie In seguito a questa interpretazione Nonostante l'invecchiamento Nonostante Le moleste subite Nonostante L'allontanamento Da questo mondo fatato In seguito a Determinate vittorie Si è commosso Come un bambino Ed è partito Magari un applauso spontaneo E questo Sorriso Genuino È anche Nel personaggio Che interpreta In The Whale Cioè una persona Che è praticamente In punto di morte Ripeto Questo è l'inizio del film Ha pressione A 250 È super obeso Non riesce neppure A fare un passo Però Mantiene Quel suo sarcasmo Quell'autoironia Celata Da quei chili e chili Di grasso Che lo stanno Divorando Essenzialmente Quindi è un personaggio Assolutamente calzante Su Brandon Fraser Quindi il casting È perfetto E in più C'è la chiave cinica Che vi dicevo Di Aronofsky E non è la prima volta Che decide di fare Una scelta del genere Perché? Perché è Esattamente Il ritorno Dell'eroe Cioè Un attore decaduto Per sue colpe Per colpe di altri Per scelte Che Torna con la grande Interpretazione E Non ci vedo Veramente nulla di Nulla di sbagliato In tutto questo Cioè La discriminazione Nei confronti Di un super obeso A parte Anche le implicazioni Salutistiche Di tutto ciò Cioè nel film Questo pesa Veramente Tipo 250 kg Perché Brandon Fraser Era alto di un metri Quindi pesa Tipo 300 kg Trovalo Un attore Di 300 kg Con quella storia Quindi Non esiste Perché se vuoi fare Un film Che lavori anche Su un concetto Metacinematografico Ti serve Quella persona lì Come Ti serviva Mick Rurk In The Wrestler Cioè non è che Puoi scegliere Poi ripeto Puoi fare un film Su un super obeso A parte ce ne sono Non è così Non te la prova La produzione Esatto Tu non puoi Lavorare con persone Con forti patologie A quei ritmi Lì è molto È molto difficile E soprattutto Se serve una persona Che non può Fa un passo Come fa un film Esatto Può anche farlo Ma Sì va bene Non mi va Di fare battute È un pericolo Prima che poi Entiamo ancora di più Nel merito Perché qua si rischia Prendendo dalla larga Di accomunare Poi questo È il pericolo Di questo discorso Di accomunare Questa questione Alla black face Ok Non farei interpretare Il ruolo di un nero A un bianco Toccando da negro Perché poi Là ci stanno Implicazioni storiche Sono del tutto diverse E hanno un peso Totalmente diverso A livello Di impatto sociale Di passi Che sono stati fatti E di quali erano Le difficoltà Poi Le difficoltà Che c'erano In quel tipo Di scelta Quindi Perché poi È facile farla diventare Una battaglia del genere Quando non lo è Capito? Perché Sono anticronto E se sente Era un po' basso L'ho alzato Perché prima c'era un po' Deco Abbassato quei mic All'inizio era un po' basso Si sente male Ma modula però Era un po' basso Parla un po' meglio Dentro pure Ok Forse era un po' basso E magari non parlavi pure dentro Prendete Prendete la clip Tagliatela Al punto D'ho detto Attore nero E sparate il volume A 600.000 Nelle orecchie Possono fare anche I mod Lo staff di Twitch E se ti hanno Io dico Nero In clip Così Se vogliono fare Del male da soli Lo faccia Ma anche forse Comunque sarebbe contestualizzato Perché stavi Criticando quella pratica Della blackface Comunque vai vai Continua pure Dice facile Sono implicazioni Totalmente diverse Non è che c'è stato Che gli obesi Sono stati oppressi Dai non obesi Per anni E schiavizzati Messi a lavorare Nelle miniere E sono stati Ti è stata preclusa La possibilità Di fare arte Per secoli Stiamo parlando Di casi Però È molto facile Metterli In un stesso calderone Quindi Non è una firma Che prende in giro Con questo vestito Che ti ingrassa Gli obesi Oltretutto Anche forse Sarebbe legittimo Sì Oltretutto che è legittimo Ma non è manco Quello il caso Neanche a dire Che fosse Di Marti O altre cose Che fa ride Però non c'è proprio Senso fare sta critica Qua Aggiungo un dettaglio Paradossalmente È peggiore La scelta Di Natalie Portman Nel Cigno Nero Che effettivamente Ha dovuto perdere Tipo 20 chili Andando sul set Con 35 chili Di peso È molto più rischiosa O Christian Bale Nel Uomo senza sonno E ho citato Cignoreo Perché è sempre Di Aronofsky Quindi Allora Fare questi discorsi qui Cioè Criticare Magari l'industria Hollywoodiana Dal punto di vista Dell'inclusività Anche quello che diceva Dave Secondo me Lo si può anche fare E il problema è questo Noi vogliamo Da Hollywood Dei sogni Vogliamo degli eroi immortali Vogliamo Tom Cruise Alto 2 metri Con i capelli ancora Neri Corvino Anche a 75 mila anni In termini d'altezza Gente d'altezza normale È stata discriminata Per assegnare ruoli Da protagonista A Tom Cruise Esatto Quindi noi vogliamo questo Vogliamo che Tom Cruise Sia immortale Vogliamo determinate cose Secondo me Nel momento in cui Cominciamo delle discussioni etiche Sull'arte Di base sbagliamo sempre Un conto è fare discussioni etiche E criticare l'apparato produttivo Nella fattispecie Cioè La selezione di un determinato attore Che deve o ingrassare Effettivamente O al quale vengono applicati Degli effetti Fisici Anche digitali volendo Allora uno potrebbe dire Cazzo Abbiamo discriminato I bodybuilder Perché in 300 Gli hanno fatto addominali In CGI Eh potrebbero dirlo Si può arrivare anche a questo Perché Se cominciamo con questa china Oppure la possibilità Pure è semplice Del regista Di poter dire Mi sono fissato Voglio quell'attore Ragazzi ma è questo Questo è Questo è Non solo Ripeto Il cinema di Hollywood Che questo fa E vi ho già detto Più volte recuperate Non solo la storia di Hollywood Ma anche tanti film Che ne parlano Via del tramonto Ave Cesare de Coen Anche le brutture Volendo anche Babylon Le brutture di questo mondo E gli apparati Lo star system È nato lì Ok Ci sono delle critiche Ma la cosa folle È Cominciare a Lamentarsi di una scelta artistica Prima Tu hai detto Io voglio quell'attore lì Mi sono fissato con l'attore lì Io penso a Michael Keaton Barton Voleva Michael Keaton Per interpretare Batman Diciamo che Dal punto di vista estetico E di tante altre cose Non era forse La migliore delle scelte No? Vogliamo criticare Quel tipo di scelta? Allora abbiamo discriminato Uno più simile a Batman Questo Ovviamente È un tema Di cui Ci metterà Belle di faccia Parlano spesso E si sentono anche legittimate A criticare Aspetti Che non conoscono Ed è giustissimo Sacrosanto E l'apprezzo anche Per la sua onestà Perché poi Nell'altra storia Irene scrive Io amo avere la possibilità Di vedere i film in anteprima Ringrazio molto Chi mi lo permette Ovviamente Vi dirò sempre Cosa ne penso In maniera una stecchiare Per me questo è Lodevole Lodevole Ed è sacrosanto Però secondo me Ci vorrebbe anche Un po' di umiltà Nel momento in cui Si mischiano competenze Magari in determinati ambiti Come sicuramente Lei avrà O belle di faccia In determinati ambiti Con settori artistici Perché Purtroppo poi Si finisce con Un giudizio etico Sull'arte Che è la morte È la morte Dell'arte stessa Cioè un artista Ci sono dei limiti Ci sono dei limiti Cioè Maltrattamento degli animali Ovvio E infatti Ci sono stati anche dei casi Però secondo me Questo è pretestuoso Cioè Il limite per cosa? Per aver preso Brandon Fraser Ed avergli fatto indossare Un Una tuta Ingrassante Non ha veramente Alcun senso Poi discriminazione Dell'attore X Che poi Non lo so Magari sarà Nel giro di Hollywood Che pesa effettivamente 350 kg In questo caso Non è neanche possibile Serviva Brandon Fraser Uno con il suo storico Come in The Pressler Serviva Mickey Rourke Questo è Dopo il film Che magari Si sarà informata Che ha cambiato idea Oppure Vedremo 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 Vorrei fare anche Una live con Anna Con Marta Per parlare Sicuramente Non avrà detto niente Ha parlato solo prima Di vedere il film Però vedi Dopo che lo vede Che magari dice Oh Che non so Ti avrà comunicato qualcosa Io comunque Ho saputo Che comunque È un film Impattante No? Cioè Gli avrà lasciato qualcosa Non ha detto nulla Curioso Molto strano Poi mi fa Questa cosa Che tu hai detto Mi fa fare una domanda In fatto Questa mancanza Di competenza Legittima Tra l'altro Perché non è il suo campo Nel settore Però anche questa Non volontà Perché lei penso L'abbia saputo prima Di andare a vedere il film Che l'attore Protagonista Era Ben Dan Fraser Questa anche non volontà Di informarsi E approfondire Perché tu Quando mi hai parlato Di questa tematica Io ho preso Ho chiamato Marta E gli ho chiesto Certo Sendo lei Erudita Sui fatti Riguardo nel cinema Oppure Che ne so Si può andare Sul web Documentarsi un po' Su come è strutturato Stazista americano E poi anche magari Criticarlo Però una volta Conoscendone la struttura Mi fa anche fare una domanda Quante Di queste battaglie Sono frutto Di un interesse Un approfondimento Uno studio Reale Mi rifaccio anche Un discorso Fatto Interessantissimo Fatto da Anna In una live di ieri Che vi invito A riguardare Che l'ho seguita tutta È stata illuminante Per quanto riguarda Tanti termini Approfondimento Di tanti termini E cose riguardanti Il mondo Del non binary Fatto una live Molto interessante Su un discorso Di una contraposizione Di un discorso Da Bicocca Un discorso Una ragazza non binary Veramente molto Molto interessante E Anna Faceva un discorso Quante volte Questi discorsi Diventano Interiorizzati Da slogan Di movimenti Che ci arrivano Dagli Stati Uniti E diventano frutto Di robe lette Su blog Interiorizzate Più per Il suono Dello slogan E quante di queste cose Sono veramente Frutto di un approfondimento Reale Un interesse Costante Giornaliero Sullo studiare Cosa effettivamente Vogliamo dire È ciò che Abbiamo sempre criticato Direne Cioè La volontà Di entrare In qualsivoglia Ambito Con delle idee Che rimangono Cementificate Ok E che purtroppo Non trovano mai Una ricerca Di discussione Poi c'è un commento Che dice Fra Io non sono d'accordo Sul discorso di prima A me non interessa Il parallelismo Trattore e personaggio Ciò che conta È la performance Allora Ovviamente In termini meritocratici Sì Io ti sto dicendo Un'altra cosa Ti sto dicendo Che Alcuni film Vengono Scritti Con Una componente Metacinematografica Ok Non penso Deba spiegarvi Il significato Però Questo è uno Di quelli Ok Punto Quindi Assumono Anche più valore Perché Alcune Vicende Realmente successe All'attore O al regista In certi casi No beh Eh lo so Adesso ho fatto Del micro Non ce la faccio Se parlate in treno Non riesco a concentrare No vabbè tranquilli Figurate Birdman esatto Birdman è un altro esempio Sempre con Kito No Sta cosa degli slogan Purtroppo fa allontanata La causa stessa Perché è più importante Il fatto di portare Qualcosa che funzioni Per Giovarci Personalmente No Quindi È sempre Diciamo Un goal Di comunicazione Piuttosto Che Un goal Di Dove arrivare A informare le persone A far passare Un determinato messaggio È tipo il compitino Se tu dai fissi Però poi diventa Il compitino Diventa il compitino Che tu devi andare a vedere Cosa funziona E poi riportarlo In chiave tua Sempre su quella lì In e lì Senza Approfondire Cioè questo Deve far rimanere Sulla Su Perfice Per applicare Quella cosa tua Che diventa Un metodo Lavorativo Non è più una cosa Come posso dire Con un intento Maggiore Un bene superiore Un bene superiore Diventa una cosa Che fai solo Per te stessa Guarda Davide Non so tu come la pensi Secondo me Chi si interessa A questo tipo di campi Di attivismo E di studio Di dinamiche Che per la società Sono comunque Relativamente nuove Questo lavorare Sull'inclusività Anche in settori Che sistemicamente Non l'hanno mai avuta Come priorità Richiede anche Per forza Inequivocabilmente Uno studio Un aggiornamento Costante Perché si rischia Di sconfessare Di sconfessare Alcune credenze Da un giorno all'altro Per esempio Nell'ambito Mi viene in mente Sempre degli studi Di genere Sono studi relativamente Nuovi Quindi si fanno sempre Progressi Sono psicologi Che si Dedicano alla causa E cercano di capire Se ci sono funzioni Dei pattern Da poter seguire Che diventano Dei fissi Sociologi Medici Ma gente Anche Semplicemente Si interessa All'andamento Della società Appunto Sociologi Quindi Non lo so È inequivocabile Per me Che devi stare Sempre sul pezzo E fermarsi allo slogan Diventa problematico Ma Assolutamente Sì Io infatti Chiederei questa cosa Direne Hai mai visto Otto e mezzo Hai mai visto Effetto notte Probabilmente Sì Però Se vuoi parlare Di Un film Che è Costruito Sulla metacinematografia Perlomeno Questi due Un gatto Nel cervello Di fulci Anche volendo Due singole annozze Anche volendo Io lo amo Tra l'altro Fondamentale No ma Sono serio Ma semplicemente Perché Se non capisci La scelta produttiva Di selezionare Questo tipo di attore Per questa operazione Parliamo del nulla Criticabile No Secondo me no Assolutamente no Il discorso legato Alla blackface Che citava prima Dave Era un caso diverso Cioè lì C'era Una scelta Precisa Di Hollywood Di Escludere Completamente Un'etnia Per dedicare Determinati ruoli Anche Di Quell'etnia Specifica A persone Bianche Cioè Era una cosa Sistemica Ok Oli Motors Anche sì Tre più recenti Magari Comunque Vediamo anche Queste storie Vediamo un po' Se estende Il discorso Presente Allora Scriverò Sicuramente qualcosa Su The Whale Che ho visto Ieri sera Perché Perché L'ho trovato Problematico Sto facendo passare Un po' di tempo Per riuscire a Scrivere qualcosa In una maniera Che sia Leggibile Leggibile E Ascoltare Io Io non vedo l'ora Non vedo l'ora Perché qui addirittura Entrerà neanche Nel merito produttivo Nel merito del film Sono molto curioso Comprensibile Anche da chi L'ha trovato Meraviglioso In sala Ieri Moltissime persone L'hanno trovato Meraviglioso Vole provare A convincerli Del contrario Volevo impegnarsi Io sono estremamente Saccente Ragazzi Ma veramente Cimetrape No Inarrivabile È qualcosa di Non lo so È al di sopra De tutto Spaventoso Devo trovare Un modo Per Per far cambiare Idea A quelli Che l'hanno Apprezzato Se ti c'è di impegnare Così tanto Vuol dire Che il problema Io sono Curioso Anche Perché magari Alcune critiche Per carità Saranno anche interessanti Ti farà cambiare Le proprie idee Non credo Io attendo Però Mi sorprendo Diciamo Della sua saccenza Che dopo anni Si intensifica Saccenza intensifies Ma guarda Se dovessi fare una classifica Metterei tipo Cimetrape Primo posto Ormai Dopo tutti questi anni Lo posso dire Silvestrin Secondo posto È frusciante Frusciantone pure C'è sta Diciamo Nella top 5 C'è posta Ciccio Gamer Matt Carus No Matt Carus Però è tutta gimmick Secondo me Non ci crede così tanto Sta cominciando A credirci un po' Anche lui Per colpa del pubblico Ma secondo me È convinto Di essere un normo dotato Cerebralmente Altri no Effetto Danny Kruger Puro Erbiologo Erbiologo pure Non è male Vabbè Andrea Della Dai Beh però Però c'ha almeno Un minimo di autoironia Cioè lui sì È disposto a scherzare Su se stesso Un po' per culo Non è uno che si prende Troppo sul serio Capito Però Boldrin pure Sì Diciamo che Boldrin Sono un po' Mezzo per me E a Ben Donde Vabbè Vabbè Comunque Merluzzo Non lo so Non è saccente Si occupa sempre Del campo suo Non direi saccente No No Saccente no Vabbè Andiamo avanti Vabbè Twinner pure Fare come Come quella che ti diceva No ma io sono fuori classifica Regà Non posso auto votarmi Ovviamente sarò primo Tu sei lo zeresimo Io sarò primo E molte classifiche Di altri Ma non posso farla Io sono in conflitto di interesse Che film hai visto Facile che vincite Ci metti da sola Però mi faccio delle domande Su come mai piaccia Così tanta gente E abbia degli elementi Che secondo me Ma non solo secondo me Sono problematici Quindi Datemi un attimo di tempo E ci torno Siamo fiduciosi comunque Non vedo l'ora Non vedo l'ora Sono Sono molto curioso A tutti Manco a tutti A tutti quelli che ci capiscono È quella la cosa Perché N'è che è un film Comunque Nazional Popolare Insomma Che va Tipo Della Marvel Pure impegnato Ma si Ma poi Guarda che Si rischiano derive Pericolose Che poi vadano A far intersecare Diversi campi Dell'inclusività Perché adesso Io penso Ad alcune polemiche Che sono state fatte Recentemente Ad alcuni punti di vista Condivisibili Ad altri meno Comunque Le riporto Le polemiche Quelle relative Al fatto che sia meglio Far interpretare A livello di doppiaggio Personaggi Di una termina d'etnia Da doppiatori C'è stato il caso Apu Di quell'etnia E da alcuni punti di vista Può essere condivisibile Se ci sono doppiatori Disponibili Con quel tipo Di accento E di quelle Anche se necessariamente Non hanno l'accento Però di quel tipo Di etnia Trovo sia una cosa Anche Un'accortezza Qualora sia possibile E anche interessante In termini futuribili Nel senso Che si vada Verso Un mondo in cui Si possa anche fare questo Con qualità Però Mi faccio una domanda Tu immagina Una situazione So su Mi spieghi cosa Però hai rotto i coglioni So quattro volte che scrivi In un video di anni fa Dicevi esattamente l'opposto Cosa Cosa Come ti devo rispondere Se lo incolli quattro volte No tu dicevi Esattamente l'opposto Ok Questa cosa Ritengo che sia esattamente l'opposto Spiegamelo Ti rispondo No ma ma ti rispondo Volentieri Dimmelo Comunque intanto Pavento questo scenario Pensate che Nell'ambito di Appunto Non binarismo E tutto quanto Si scelga Per inclusività Di far interpretare A Una persona non binaria Che si identifica Oppure Una persona Di sesso e miglia Che si identifica In un uomo Però non Transgender Quindi Effettivamente Donna Tutti gli effetti Tramite Il trucco Il ruolo di un uomo Però una donna Che interpreta il ruolo Di un uomo Cosa succederebbe lì? È stata discriminata Una donna Si creerebbero Delle fazioni Esattamente come si creano Fra i non binari E i transgender Per i motivi Insomma Di includersi O meno Anche per il discorso Che facciamo Di Adrian Quindi Essere troppo Troppo dentro Queste meccaniche Anche Quando si parla Di arte Si rischia di fare Bel macello Facciamo due Scenari Su questo spunto Molto interessante Dave Primo scenario Effettiva discriminazione All'interno Del meccanismo Hollywoodiano Può esistere Anche In ambiti Non recitativi Cioè Manovalanza Cose di questo tipo Può esistere Però non esiste Un ruolo lavorativo Che è necessariamente Di un uomo Che dice Se ci metti una donna Cioè qua ci dovrà essere un uomo No no Però Ad esempio Anni fa Anni fa Scelsero Di imporre Tra virgolette Imporre però Dettare degli standard Soprattutto in termini produttivi Cioè di staff Diciamo di inclusività Ok E se non Riuscivi a rientrare In questi parametri Non potevi Che ne so Entrare nelle possibili candidature Dei Golden Globe Non ricordo adesso Degli Oscar E quindi effettivamente Ci può essere un problema Ad Hollywood Anche di discriminazione Nelle manovalanze Può esserci In quel caso va combattuto Perché Questo potrebbe essere Chiamato incentivo Magari Però dipende pure Come lo fai Nel senso Seppi gareggia Al contesto Degli Oscar Mi pare Golden Globe Se non sbaglio O forse Oscar Vabbè comunque È una competizione Una manifestazione Se è un incentivo Secondo me Potrebbe essere diverso Però dipende Quanto va A influire Poi E cosa ne comporta Perdonami Sono tanto interrotto No 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 Cioè Secondo me È anche Allora Se nasce da un problema Come è stato Può aver senso Dipende sempre Poi La linea Che prende E l'effetto Che porta Perché se io Devo rinunciare Magari Alla qualità Oppure Devo andare A sopprire La competenza Per andare A supportare Genere Può essere Può essere una scelta Che la tua produzione Fa Però Non è una scelta Obbligata Cioè uno non è consapevole È un prodotto loro Che poi devono andare A vendere loro Quindi No no Appunto io dicevo Che le due opzioni Sono queste La cosa più che altro È sgradevole Quando diventa Forzata all'estremo Quindi non per entrare Magari Da una cosa Che poi nasce Come uno stimolo Perché ha qualcosa Come un messaggio Positivo Che poi magari Una cosa che viene fatta Perché altrimenti Ti senti in difetto Dal punto di vista La società Sì È brutto Quando diventa Una forzatura Quando è una cosa Che va A Equilibrare Il genere Però le competenze Rimangono quelle Il prodotto è valido Io sono completamente D'accordo Se poi diventa Una forzatura Come spesso si è visto Che quindi Devi per forza mette Personalità Di un certo tipo Di un certo Orientamento Proprio nei cast Lì È una cosa diversa I token Per esempio I token Esatto Quello intendo Dicevi No allora È un po' difficile Nel senso Io ero partito Un po' alla larga Parlando appunto Dello staff Proprio perché Ci fu Un certo tipo Di decisione In tal senso Perché evidentemente Come diceva anche Gianluca Dei problemi In termini di Discriminazione Anche in ambiti Anche in ambiti Non strettamente Recitativi Quindi ciò Che tu devi Inquadrare davanti Alla macchina Da presa Che deve Secondo me Continuare A sottostare Al semplice Alla semplice Volontà Del regista Un esempio Su tutti Mariangela Pantozzi Ma ce ne sono Miliardi Quindi Effettivamente Nel momento in cui Sussiste un problema Di discriminazione In ambito Anche Hollywoodiano Cinematografico Lì è anche giusto Intervenire esattamente Come il caso Del gender pay gap Ok quindi C'è una discriminazione Ovvero Le donne Tendenzialmente Vengono promosse Meno nei posti Di potere Allora lì ha senso Perché tu ovviamente Devi andare a sanare Una situazione Problematica Di discriminazione Di genere Di etnia E la parliamo di staff E diciamo che In parte Hanno provato Anche se poi Io ho fatto Una piccola analisi Vedendo tutti i film Candidati Agli Oscar Negli ultimi anni Ed ho notato Che in realtà Praticamente tutti Rientravano già In quei parametri Ok Quindi mi è sembrata Più una cosa di facciata Però al di là Entra in campo Davanti alla cineva Ok esatto E questo è l'ambito Diciamo staff Che è equivalente A qualsiasi altro lavoro Quindi tu Dovresti In un mondo ideale Lavorare Secondo le tue competenze Le tue abilità Ok Nel momento in cui Entriamo lì dentro Ci sono tanti fattori E che Sono discriminatori Ragazzi Incredibile Ebbene sì Perché Già La scelta Di un regista È Una discriminante Quindi Se io Scelgo La bellezza dell'attore Come è stata pure Pena vita Se io scelgo Se io scelgo Di prendere Marilyn Monroe E costruire Quella bambola Sogno dell'uomo medio In quel modo lì Creare quell'immaginario lì Ripreso anche da Warhol Per la sua iconicità Quello rimane Un mio Libero Mia libera possibilità Artistica E questa cosa Non può essere Messa in discussione Tranne nel caso In cui ovviamente Si vada a sconfinare In una sorta di illegalità Come diceva Dave Caso di animali Tipo Ruggero Deodato Condannato Per maltrattamento Di animali Oppure Bambini minorenni Scene di sesso Cose anche Capitate Parlo solo Di ciò che viene filmato Ovviamente Non di reati Fuori dalla macchina Ma nel momento in cui Rimaniamo in un campo Assolutamente normale Cioè la scelta Di un regista Che vuole prendere Marco Chitano Come attore Per interpretare La cosa più lontana Da Marco Chitano Un generale nazista Fa parte Lontana Vabbè Perché noi non possiamo Dicere certe cose Fa parte No no Fa parte Di Cioè Sarebbe come sindacare La scelta Di uno scrittore Nella descrizione Di un personaggio Cattivo Trans Visto che È uscita fuori Anche questa cosa In relazione alla ruling No In quel momento L'attore È una pedina In mano al regista Che è equivalente Ad uno scrittore A un musicista È uno strumento Sarebbe come criticare Il basso suonato In un determinato modo La meritocrazia È relativa Nel momento in cui È Un regista O una produzione Che scelgono Determinate cose Ok Poi Il discorso diverso Può essere Perché la società Vuole Quel tipo Di attore Quindi L'attore ingrassato Appositamente per il film L'attore che già conosce Invece di un attore Realmente grasso Perché vuole L'attore invecchiato Invece che l'attore Realmente vecchio Ve l'ho spiegato perché Perché Hollywood È nata Con tutte le sue brutture Morirà Come fabbrica Di sogni E l'uomo Ama vedere Le storie Di tracollo Di trasformazione Di cambiamento È bello Anche in maniera sadica Se vogliamo vedere Un Christian Bale Passare da 40 kg A 100 kg In American Hustle È malsano Per certi aspetti Sì Ma è l'arte Ma per me è auspicabile Un mondo in cui I due approcci Possano coesistere Perché altrimenti Si rischia di andare incontro A uno scenario In cui In un futuro Fra 20 anni Se si procede Verso questa direzione E queste battaglie Diventano Le battaglie di tutti E sono sempre più legittimate Ci dovremmo Tanti possibilità Di non poter avere Un film come Rain Man Ad esempio Perché Un attore Non disabile O Forrest Gump Non potrebbe interpretare Legittimamente Il ruolo di un disabile E poi magari Successivamente Arriveremo Alla discriminazione Dolorosa Dei senza talento Perché uno Che fa cacare Non può essere protagonista In un ruolo È mica colpa mia Se non ho talento Mi discriminate Pure io voglio essere protagonista Voglio essere un cantante famoso Voglio essere un attore di Hollywood Anche se non so fare un cazzo Che questo è l'estremo Una follia Però potrebbe succedere Sì perché no Non sono bravo Che è colpa mia Il mio piede sinistro Con Danny Day-Lewis Cazzo Danny Day-Lewis Ha interpretato Lincoln Cioè Vabbè Quello è un caso Magari di personaggi storici Però Vabbè Poi adesso Magari abbiamo anche Esaurito un po' il discorso E rischio di ammorbare Tutti con le mie stronzate Sul cinema Però Secondo me Questa è una retorica Completamente fallace Che può Estendersi solo A discorsi veramente Gravi di discriminazione Come in passato Successe con la Blackface Ad esempio Quella era proprio Una scelta ponderata Di rimuovere completamente Un'etnia Ma erano ovviamente Tempi diversi Basta Tutto il resto È criticabile Se vogliamo Ma Tra l'altro Nel caso specifico del film Secondo me È cannato completamente Cara Irene Criticabile Ma fino a un certo punto Nel senso che poi alla fine Nel momento in cui Cominciamo ad Inlordare eccessivamente L'arte Con questioni etiche Ripeto Entro Limiti La uccidiamo Punto Allora Visto che già è un'industria Hollywood Visto che parliamo di film Di questo Immaginario qui Se effettivamente La direzione Dovesse essere questa Diciamo Alla cimetrapia Alla bella di faccia Si potrebbe creare Facilissimamente Un prodotto Con le enormi risorse Di Hollywood Che vada A colmare Queste esigenze Etiche Sociali E politiche E non più Alla libera Decisione di un artista Che già deve sottostare A logiche gigantesco Hollywoodiane Che comunque parliamo In questo momento Di Aronofsky Che come dicevo prima E' uno dei pochi Che ha Una grande Diciamo Disponibilità Contrattuale Non è neanche un film Costato tantissimo Poche location Pochi attori Eccetera Però Figuratevi Un regista Non così famoso Noi spieghiamo a Marta Quante produzioni Grosse Hollywoodiane Che Devono avere dei film Che poi rientrino In certi budget Sono già Nonostante Lavorino in occidente Sono costretti A sottostare Entro certi termini Alla censura Del mercato cinese Decidendo Di Trattare certe tematiche Oppure Non includere Alcune scene Che vorrebbero mettere A livello registico Anche a livello Di sceneggiatura Perché altrimenti Il film si precluderebbe Il mercato cinese Sarebbe un danno enorme Per il recupero Del budget E quindi L'arte è già Deturpata Da logica di mercato Costantemente Purtroppo Quindi No no ma È assolutamente così È assolutamente così E poi Piaccia o non piaccia Il cinema È un'arte costosissima Probabilmente È l'arte più costosa E Deve tener conto Anche di questo E quindi Devi prendere Brandon Fraser Ripeto Questo è l'esempio sbagliato Ma devi prendere L'attore In voga E farlo ingrassare Rispetto ad un attore Così grasso Sì E se no Non fai film a Hollywood Tutto Questo è Il mondo reale Perché Film che costa 50 milioni Di dollari Deve garantirti Almeno Un minimo Almeno di rientrare Nelle spese Se no Non avremmo visto The Whale Ma sta cosa che ha detto Dave Poi è vera L'avevo sentita con un film Marvel Ma purtroppo Non mi ricordo quale Forse lo potranno Di in chat Che Col fatto che non era uscito In Cina Aveva fatto un sacco Di incassi in meno E questo l'avevo sentito Quando appunto Si parlava Del fatto Era uscito Non mi ricordo Purtroppo Comunque se parlava Di un film Marvel E il fatto Che aveva guadagnato meno Era appunto Questa cosa Che aveva detto Dave Che se non intervieni Chirurgicamente Sulla modifica Da alcune parti Del film Prima che esca Sei costretto a fare Una versione alternativa Per la Cina Ma spesso però Il mercato cinese Non te l'accetta Comunque se ne esiste Una versione Comunque libera Da quelle cose Che loro vogliono eliminare Quindi spesso Poi te sei costretto Scientemente A deturpare Una sceneggiatura In antico Questo è parlare Seriamente Di un'industria Che ha questi difetti E purtroppo Bisogna Accettarli Senza giustificarli Ma almeno Comprenderli Capito? No ma soprattutto In questo caso Non c'è assolutamente Nulla Nulla da Dover giustificare Punto Anche perché Ripeto È assolutamente Legittimato Di interpretare Un ruolo del genere Brandon Fraser Per il suo storico Per il suo passato Da sex symbol Decaduto Per i problemi Anche fisici Per il sovrappeso Che ha avuto Per i disturbi alimentari Quindi È anche coerente Non è discriminatorio È discriminatorio Secondo una logica folle In cui Ciò che vediamo Nello schermo Debba Trovare connessione Con l'attore Che lo interpreta Non è così Non è così Punto Poi uno potrebbe dire Non ti prendo Perché non sei obeso Cioè pensa un po' Diciamo Vabbè Anche quella È discriminazione Per Dio È successo questo problema Lo sai Non è una battuta È successo A Rebel Wilson E altre attrici Conosciute E divenute note Per ruoli Spesso comici Da magari Donna corpulenta Che In seguito Ad un dimagrimento Fatto per la propria salute Ovviamente Hanno completamente perso Tutta la loro Valenza contrattuale Perché Per il discorso Che vi facevo prima Non trovavano più ruoli Associabili Al personaggio Che il pubblico Aveva Identificato in loro Quindi questa cosa In realtà è già successa Anche Jonah Hill Ha dovuto Lavorare molto Perché ormai Era rimasto confinato Nel ciccione Invece poi Ha fatto una serie In quella di Magrido tantissimo Altri film Che lui comunque Ha ottenuto Un'ottima visibilità E quindi È molto amato E per fortuna Può permetterselo Però per un periodo Lui come tanti altri Hanno ricevuto Quasi ordini Dai propri Scout Insomma Dai propri manager Eccetera Di non Perdere peso Per ragioni Contrattuali Ordinare la pizza Stasera No guarda oggi Non ciò Dai ordinare Meniac era la serie Comunque ragazzi Allora Questione fishball Fishball Let's go Grazie 96 Io direi Di mettere in play Comunque vabbè Premessa Fishball si sfoga In questa live In seguito ad Alcuni eventi Che riguardano Il suo ultimo ragazzo Quindi non Taxi B Si parla di Furti in casa Si parla di Porte sfondate Si parla di Gravidanze Si parla di Soldi Di fishball Come unico obiettivo Da relazione Come cose che comunque Al di là dell'aspetto gossip Che skipperemo Sono gravi Parla anche di Denuncia Fishball A differenza Dell'altra volta Ha deciso Di denunciare Questa persona E quindi Ascoltiamo un attimo Vi chiedo solo una cosa Un minimo Anche se so Che è detestata Come persona Un minimo Di comprensione Nonostante Insomma I modi Decisamente brutali Di fishball Perché parliamo Di una persona Incinta da tre mesi In uno stato Di stress eccessivo Quindi Non dico Giustificatela Nei toni Però Cerchiamo di capire Cerchiamo di capire La situazione Continenza Cerchiamo di capire La situazione Questo non significa Giustificare anche Alcune frasi O alcuni atteggiamenti Di fishball Che io trovo Altamente criticabili Però ricordatevi Insomma che Stiamo parlando Di una persona In uno stato Di estremo stress Estenuata Alla fine A quanto dice Di una relazione Che ha implicazioni A dir poco tossiche E anche criminose Da quello che mi è sembrato Di capire E io posso Posso dirlo Perché ho avuto Alex Incinta E sicuro che Beh è una roba Per le morte Ragazzi È una cosa disumana Avere a che fare Con una donna incinta Però Soprattutto per loro Ma al di là di tutto Allora Let's go Ci siamo Aspetto che entri la gente Andate un po' avanti Tanto l'ho scaricato apposta Perché questo è un video Su Instagram Pensate Quanto possa avermi fatto male Questa persona Per fare Una cosa del genere Cioè Questa persona Mi ha rovinato l'esistenza Perché io non potrò Mai più avere figli In vita mia Per colpa Di questa persona Che mi ha Propositamente Messa incinta Due volte Guarda caso In 24 anni Della tua vita Non ti è mai successo Con fishball Ricca Famosa Due volte La prima volta Ho abortito a Miami Sono stata malissimo La seconda volta Purtroppo Mi è stato detto Che se io Avessi fatto Un altro aborto Sarei rimasta sterile Cosa mi ha portato A fare Questa scelta Partiamo col presupposto Che Tutti sapete Quello che è successo Con il mio ex Che ha puntato Una pistola In testa Questa persona E questa persona Adesso partiamo Proprio dall'inizio Così saprete Che cose Che Marco Nel senso Cioè erano proprio Delle violenze L'ha ingravitata Era il suo ragazzo Al momento Il suo ex Perché dice Tu l'hai voluto fare Mi hai messo incinta Nel senso Quindi con la violenza Lei ha riconosciuto Un pattern Di l'insistenza Di voler Diciamo Fare sesso A scopo Procreativo Con molta vehemenza Dice guarda caso Tu di solito Sapevo che tu Nelle tue precedenti relazioni Non è che eri così fissata Di un bambino Guarda caso con me Lei ci ha visto Ovviamente Ti vuoi accasare No? Ma parla di quello Dopotaxi Parla di quello alto Con cui si era messa Subito dopo taxi Ok Quindi questo Dopotaxi Ok perfetto Capito Questa persona Lei dice È quello che è stato Minacciato da taxi Insomma che Al momento Stava con lei Brutta storia E che schifo Sto dovendo subire Che io mi sto Veramente Prendendo Non avete la più Palli idea Di quanti assiolitici Io mi stia prendendo Perché sto veramente Uscendo fuori di cervello Questa situazione Per me sta diventando Insostenibile Cioè Io lo auguro A qualsiasi donna Che non succeda mai Una roba del genere Perché è veramente grave È veramente grave Che questa persona Mi abbia Messo nella condizione Di non avere mai Di non avere mai più figli In vita Mia Quindi se io sto facendo Questa cosa È perché veramente voglio Che questa persona Soffra almeno Un quinto Aspetta un secondo È incinta a tre mesi pure Ha scelto comunque Di procedere per l'aborto Anche se questa cosa Potrebbe potenzialmente Renderla sterile Ma è già incinta Da tre mesi Non penso sia più possibile Ormai il treno Penso sia passato Guarda È mo che sta tornando Davide Sicuramente lui Essendo padre Potremmo se ne sa un po' di più Io non so come funzioni È come ai tempi Veramente del dopoguerra È il fatto dell'aborto Non credo se possa fare adesso In Italia Giustamente Non so come funzioni A me faccate pure dalle nuvole Sto fatto che se Tre mesi dicono sì Ok ok Se abortisci Poi potresti diventare sterile È un campo che Non so qual è il limite Entro il quale non è più possibile In Italia Dico in tre mesi Si può Ok ok Passando io Trasciando il fatto Conosco questa persona Ok Tutto a posto all'inizio Partiamo con il presupposto Che innanzitutto Mi ha passato tre malattie Sessualmente trasmissibili Ok E io ho fatto una cura De tre mesi Perché pensate Cioè Poi uno dice Ma Sei talmente L'altrina Che veramente C'è il cazzo più sporco D'un cesso D'un autogrill È passato Il tricomonas La candida E la cardenella Io ho fatto una cura De tre mesi Avrei dovuto farmi Qualche domanda No Però io sono talmente buona Che dico Boh Vabbè Sarà stato Qualcuna prima di me Che era sporca Mai è successo Sto roba a me In anni raga Io veramente Ho preso tre cazzi In sette anni Ma di che stiamo parlando Partiamo con il presupposto Che questa persona Oltre ad avermi passato Le malattie Sessualmente trasmissibili Dall'inizio Mi ha rubato 2500 euro In casa Da una bottiglia Che si è andato A giocare alle macchinette Ok Io questa cosa Adesso l'ho scoperta E ho scoperto Tante altre cose Ma partiamo proprio Dall'inizio Inizio a litigare Con questa persona Perché vedevo Che era un po' Troppo interessata Ai miei soldi Nel senso Io sono una persona Molto generosa E se guadagno Il triplo di te Cioè te do pure l'anima Capito Perché io sono Una persona infinitamente generosa Quindi ho iniziato A pagare A spendere 300 euro Le Uber ogni giorno Per mandare in giro Sta persona Per pagare Gli da mangiare Vi ho regalato Moncler Da 3000 euro Cioè pensate quanto Cazzo sono idiota Io no Capito Cosa succede Che praticamente L'ha adottato C'è un po' troppo Interesse economico Da parte di questa persona Moncler Nei miei confronti Ok Fatto sta che Questa persona Sapeva che Se io rimanevo incinta Un'altra volta All'altro Che ho già fatto Due raschiamenti Ho già preso Una pillola Io non posso prendere La pillola Perché Avendo bipolarismo Mi causa Proprio Dei problemi Psicologici immensi Quindi non posso Prendere La pillola Anticoncezionale Ok Mi ha messo incinta Di proposito Il preservativo Il preservativo Dici che Quello è sempre Il quarto dei parigi Ha dato un sacco A meno che Quando si rompe Però per il resto C'è un'affidabilità Quasi totale Cioè Fin quando rimane integro Poi bisogna sempre Controllare Il 99% In realtà Nella scala Sì no Perché là Comunque dice anche La cosa della rottura Poi tanti non so Se hanno mettere bene Però vi consiglio sempre Una volta dopo Finito l'atto Io ando nel preservativo Metto sotto Rubinetto Lo gonfi Di palloncino E tasti E vedi se c'ha degli zampilli C'ha degli zampilli Ovviamente C'è stata una Buoni tutto in faccia No Pieno d'acqua Che schifo Che schifetto Eh lo so Del rischio c'è però Tanto per i ragazzini Che sono Ne scappano Ma sai che pure prima Me l'hanno fatto A meno che non è Simone Me l'hanno fatto Mentre che parcheggiavo L'ho pure mezzi visti Ho fatto proprio visto Ma infatti manco merito No lui insisteva Per farlo senza Magari Comunque Gli potete No facciamolo con Però giustamente Magari quello Gli ha fatto pressione No infatti è capito C'è stata una violenza Da quanto si è capito E poi è una persona Mezza violenta Vabbè ragazzi Questo ovviamente Da quello che è riportato Da lei Cioè è sempre ovviamente La sua persona È una campana Però quindi Chiaro Chiaro Lo scempio Che io sto veramente Subendo Dopo che ho difeso Anche questa persona Di peso ovviamente Nella fattispecie Con taxi Minacce Eccetera Tutta la live Che abbiamo visto Quella volta Cosa succede? Che praticamente Noto Un grande interesse Economico Nei miei confronti Non c'era nessuno Ovviamente ragazzini Imbecilli Vabbè bravi Ho iniziato a notare Le robe strane La prima volta Che io ho cacciato Questa persona Perché adesso Dato che si vergogna Così tanto Delle robe che fa Voglio che anche tua madre Sappia che sei un tossico Che Se fate MD Tutti sabati Venerdì Domeniche Perché Tiriamo fuori tutto Adesso Tossico Un po' d'MD Io non ho mai detto Che Domenica Una volta a settimana Una volta a settimana Almeno Avevo comprato Delle cose Che costavano 90 euro E le avevo nella borsa Cosa succede? Che torno dal bagno Apro la borsa E vedo che queste cose Non c'erano più Le aveva prese E le aveva regalate A tutti i suoi amici Per fare il figo Con i miei soldi Tanto per cambiare Dato che queste cose Succedevano in continuazione Lo caccio di casa Cosa fa questa persona? Cosa che ho scoperto Anche dopo Che praticamente Nel momento in cui Lo caccio Dato che Non ha un euro E va letteralmente A mangiare la caritas Cioè tu devi Ringraziare il dio Che io Sono una persona Poco superficiale E ti ho considerato Perché a me Se sei famoso Ricco Non me ne frega niente Invece dovrebbe Fregarmene Perché purtroppo Tutte le persone Che non lo sono Da te Vogliono solo quello Per quello Io sono sociopatica E mi fa schifo La gente Ok Perché tutte le persone Mi vogliono usare O per il mio successo O per i miei soldi Perché così è Così è L'ha fatto il mio ex Quando ci siamo conosciuti Per far spingere la musica E poi ha iniziato A levarmi tutto L'hai fatto tu Cercato di incularmi i soldi Mettendomi incinta Apposta Per incastrarmi Sapendo che io poi Potevo rimanere sterile Mettendomi nella condizione Di doverlo tenere per forza E poi mi viene a rubare Il fatto sta Che io caccio Questa persona di casa Cosa fa questa persona? Aveva visto Uno dei codici Di un telefono Che avevo in studio Che io poi Ho scoperto Cosa è successo Io infatti Mi devo scusare Con sta cosa qua Sì ma chiudete lì regà E appunto Chiudi Solo il vento Stai in fase da scusa Con taxi Perché Ho scoperto Praticamente Dopo settimane Che praticamente Il telefono Che aveva usato Questa persona Per pagarsi L'Uber Dopo che l'ho cacciato Perché mi ha detto Io prendo un Uber E me ne vado In realtà Avevo sbloccato Uno dei miei telefoni E si è chiamato Un Uber Con la carta di credito Di taxi Nulla che non avvenga Già nella sdrubbalini Giornalmente Niente di nuovo Sotto il su Mi ha puntato La pistola alla testa Ma ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Di che Sì Questo è successo Raga Fatto sta che Io mi incazzo Come una belva Ci parlo più Con questa persona Scopro di essere incinta Scopro di essere incinta Quindi lì me ne vado In sbatti Perché dico E adesso Cosa faccio Cosa fa Perché se Non lo tengo Rimango sterile Rimango sterile A vita Quindi Do un'altra Pensate quanto sono Stupida Pensate quanto sono Stupida Perché sono veramente Troppo buona Do una seconda Possibilità A questa persona Che mi supplica Io metterò anche Gli screenshot Tra un po' Raga Perché Mi sono veramente Cagata al cazzo A me nessuno Mi fa paura A me Nessuno Mi minaccia A me nessuno Me la mette Al culo Perché io sono Bravissima Ma se tu cerchi Di rovinarmi L'esistenza Firmi la tua Condanna Io divento il tuo Inferno Sulla terra Perché io non me Faccio trattare così Io sono una donna Con i controcoglioni E se voglio Te piscio in testa Col cazzo Che non hai Perché c'ho più Palle di te Allora Possa che Dove una seconda Possibilità A questa persona Dopo lo scempio Che aveva Già fatto Ok Cosa succede Che inizialmente Ah no no Aspettate Perché c'è Una roba Che ho tralasciato Importantissima Durante la sua Permanenza In casa Mi spariscono 2500 euro Che avevo In una bottiglia Di plastica Ok Mi spariscono Di soldi Che io avevo Messo da parte Per mia sorella Per mia sorella Ok Verso neanche Dopo parlerà Della denuncia Nella live Dirà Che denuncerà Questa persona Che Potesse essere lui Ma conti fatti Ci metto la mano Sul fuoco Sapete cosa fa Questa persona Quando mi spariscono Sui soldi In colpa Suo cugino Gibril De Torino Dicendo che Sua madre Gli aveva detto Ma che cosa Ci fai con lui Ma non lo sai Che Cioè Pensa quanto sei infame Pensa quanto sei infame Fai ricadere la colpa Su tuo cugino De sangue Dicendo che Molto probabilmente Era stato lui Poi dice No 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 Ma chi è stato qua Cerca di tirare La colpa Addosso Ad Amin Adottore Ad Yusuf Che io non gli ho neanche detto Ste robe A ste persone Ok Ai suoi migliori amici Prepararsi il culo Cerca di fare Ricadere la colpa Su di loro Io non ho detto niente Finora adesso Perché io non sono Uno schifo Ok Cerca di fare ricadere La colpa Su di loro E io già lì dovevo Farmi due domande Perché Se è la colpa Tu cugino Io dico Vabbè Non lo so Fatto sta che passo Anche sopra sta roba Nonostante mi Mi stesse triggerando Il cervello Perché io dicevo Ma chi può essere stato Chi può essere stato A aver preso Sti soldi Quindi Ho messo delle telecamere In casa Cioè pensate quanto Mi ha Destabilizzata Sta roba Io ho smesso di fidarmi Di chiunque Perché ti ospito In più Mi derubi Fatto sta che lo perdono Inizia A comportarsi bene Inizialmente Cosa succede Che io inizio a fare Delle analisi Perché decido Di tenere Sto bambino Che adesso Non terrò più Perché io con questa persona Non ci voglio avere più A che fare Piuttosto Rimango Sterile A vita Piuttosto Lo adotto Un bambino Se lo voglio Fatto sta che Decido di tenerlo Appunto E inizio a fare Degli esami Io ho Una malattia Di tipo Autoimmune Al sistema Immunitario Motivo per il quale Mi ammalo Un giorno sì Un giorno no Ho l'artrite Ho l'orticaria Cioè ho mille robe Perché non sto bene Le salute E questa persona Lo sapeva E io gli ho detto Senti Il medico Mi ha detto Che sarebbe Consigliabile Che io non vada Nei club Perché rischio Di amalarmi E rischio Di mettere A rischio La gravidanza Cioè rischio Che il bambino muore Ok Cosa succede Che questa persona Va a ballare Di nascosto E come lo scopro Perché uso La mia carta di credito E mi esce Il nome del club Dove stava andando A ballare E il giorno dopo Torno a casa mia Sapete cosa è successo Che a venerdì È andato al bendo Io ho chiamato Chi lavorava lì Chi lavorava lì Per chiedergli No ma ti giuro Io non ci sono andato Io ho dormito In macchina Con il mio amico Omar Sito Che è rubriaco Ma io lì Non ci sono entrato Chiamo quelli del bendo Nel locale Che spero che tu Non ci metta mai più Piere lì Perché Cioè Veramente Chiamo quelli del bendo E mi confermano Che lui lì C'era entrato Ed è tornato a casa Sapendo che poteva Uccidere il suo figlio Cioè Ma vi rendete conto Ma vi rendete conto Raga Della malattia Della malattia Cioè Veramente Hai dei problemi gravissimi Che tu metti In pericolo La mia vita E quella del tuo figlio Per andare a ballare In un club Questo è l'unico L'unico collegamento Che ho mancato Io pure Dopo si piatta Uccidere il figlio Tornando da un club Malattie Di vario tipo E Praticamente Fish ball Durante gli esami Ah nel senso Lei non ci può andare Per il fatto Dei difese immunitarie Basse Se lui va là Si espone Tipo I tempi del covid Ok Ho capito Infatti C'era un problema Similare Anche Con Alex Incinta In quarantena Ovviamente Io Gianluca Anche Simone Perché C'era il covid Cercavamo Cercavamo Di limitare Assolutamente I contatti Con il mondo esterno Perché Chiaramente Durante una gravidanza Già il sistema immunitario È messo a dura prova In più Lei Da quello che dice Appunto Anche Dei problemi Al sistema immunitario E quindi Potrebbero Con molta probabilità Inficiare la gravidanza Non avevo capito il passaggio Estrema mancanza Dalla versione di fishball Io lo ripeto Estrema mancanza Di Come possiamo definirlo Di riguardo Nei confronti Di riguardo Nei confronti Di gravidanza Esatto Di una potenziale Un potenziale danno Alla compagna E al figlio Tra l'altro Se poi la carta Nella fattispecie Quella sera Non l'abbia usata Yusuf È una delle ipotesi Pamentabili Lui Tra l'altro L'ha anche messa in conto Finisco qua Sì Vado io? Ma tanto scappano Io so correre molto veloce Quelli che ho visto prima C'erano dieci anni Vabbè Andiamo avanti Ignoreremo Il ci dopo Andiamo avanti Prima dei vostri genitori Andiamo avanti Guardate io ho molta fame Ma c'è la telecamera Quindi No Allora io voglio Voglio dire soltanto una cosa Prima di proseguire la visione Io capisco Le critiche Per il comportamento Di fishbowl Perché io Sono Sono estremamente Critico Duro Nei confronti Dell'esposizione In pubblica piazza Di fatti privati Anche esterni Alle vicende Criminali In determinati casi E quindi fatti Solo magari per infangare Il nome di una persona Anche la persona peggiore Del mondo Perché ovviamente Parliamo di un qualcosa Che è sbagliato A prescindere Ciò detto Quindi questo Va messo in chiaro E non mi piace Il comportamento di fishbowl Quando esagera In questi termini Esattamente come Non mi piace La diva del tubo Quando fa cose di questo tipo Al netto di questa considerazione Che secondo me Dovrebbe essere la base Ma non l'ho specificato Perché insomma L'ho detto In miliardi di live L'abbiamo sempre detto Penso sia evidente Ascoltiamo anche Diciamo La versione Ripeto Ed è tale Non la realtà La versione Perché si parla Non solo di furto Ma anche di Appunto Atti Di danneggiamento Vanno eventualmente Nel penale In caso fossero verificati In caso fossero verificati Con l'intenzionalità Appunto Della persona Io penso Anche i termini Estremi E le modalità estreme Utilizzate da lei Sono facilmente contestualizzabili In uno stato di Gravidanza Quindi Squilibrio ormonale Insomma La situazione ormonale Particolare E anche Shock A livello psicologico Per stare Nel mezzo A una situazione del genere Quindi Penso che la tolleranza Si possa avere anche In quel senso Pensate voi Nella situazione simile Se riuscireste a essere lucidi Poi L'utilizzo del mezzo Pubblico Come i social Fa parte Ormai Dello schema D'azione Di una persona Che ci vive Sui social Tutti i giorni Come quando si critica Chi mette Troppe cose private I figli Le varie polemiche Ormai Tu sei abituato Ad agire in quella modalità Quello è criticabile Però Diciamo che può avere Degli aspetti positivi Cioè Anche questi Insomma Sono stati citati Più volte da noi Degli aspetti positivi In relazione alla Magari Ricerca Di informazioni Sulla persona Che puoi fare In maniera Decisamente più veloce E alle volte Funzionale Rispetto ad un Iter burocratico Che è molto spesso E lentissimo Ci sono anche Degli aggiornamenti Sulla vicenda Che adesso Andremo a vedere A quanto pare Diverse persone Hanno scritto A fishball Parlando di questo individuo E si parla anche Di stupro Minorile Sono volate anche Queste accuse Nei confronti Di questa persona Accuse Molto gravi Che andranno provate Ok Però Vediamo insomma Perché L'unica obiezione Diciamo che mi viene Alla stessa Argomentazione Che ho portato io È questa Cioè magari Mobilitare le persone Con un nome Può servire anche Come Canalizzatore Di informazioni Sulla persona stessa Esempio Matteo Saba Nel momento in cui Abbiamo cominciato a parlarne Tanti Ci hanno scritto Anche io In primis Gibba per esempio Nonostante La giustizia Avesse già fatto Il suo corso Per molte cose Ma per altre no Comunque Andiamo con ordine Sono d'accordo Ed è giusto Portare avanti A questo tipo di battaglia Anche se fossero Al limite Della definizione Quando Magari Che ne so Immagino Che cosa gravissima Che è una roba Che ogni volta Che la vedo Che la vedo Arrivare O succedere Da parte De persone Che vedo nei club Ma arrivo Un tizio Che gira intorno Una tizia Podesimente Che so A 17enne O Quasi al limite Dei 18 anni E vedi il tizio Gli offre i drink In continuazione Va là Tocchicchia Fa tocchigna È una roba Che a me fa Sare il sangue Al cervello Perché Tante Esperienze Che persone Fanno nei club In cui avvengono Scopate Nei bagni Sotto l'effetto Di Sotto l'effetto Di stupefacenti Alcol Rientrano Tristemente In cose Ascrivibili Allo stupro Però spesso Mai denunciate Perché si tende A normalizzare Questo tipo di pratica Anche la donna Si sente in colpa Si sente inadatta A denunciarlo Tante cose Tante dinamiche Che conosciamo bene E Sarebbe bene Che se cominciasse A A fare attenzione Non soltanto In casi Eclatanti Come questo In questa denuncia Ma se per non essere Attenzione sull'argomento In generale Perché tanti Anche insospettabili Che sono visti Come buoni Fanno questo Più di quanto Immaginate In continuazione Poi mi auguro Che non debba Ribadire ancora una volta Il concetto Della versione Unidirezionale Ho citato adesso Saba Anche lì Abbiamo ascoltato La sua versione Sul caso Anima Abbiamo ascoltato Quella di Anima Quindi Noi non possiamo Sapere La realtà Prima di un giudizio In tribunale O di prove Eclatanti Faccio un esempio Estremo Se uno mostra Il video Di uno stupro E beh A quel punto Si poi aggira La magistratura Ma tu hai visto Uno stupro Eccetera Però Mi auguro Che questi processi Mediatici Non portino Ad un'impiccagione In pubblica piazza In assenza di prove Perché C'è sempre il rischio Il caso Amber Heard Johnny Depp Quindi Attenzione anche a questo Cioè Nonostante io conosca Fishball E possa avere Un mio pensiero Sulla vicenda Anche di cose Che magari lei Non ha esposto So io Privatamente Rimane la mia idea E io non posso Pubblicamente Ma neanche privatamente Lo faccio Mettere la mano Sul fuoco Su una cosa Di cui so ben poco Cosa abbiamo oggi In mano Abbiamo di fatto Una testimonianza Pubblica Di una persona Che dice Determinate cose Qualora fossero Disponibili In futuro Sarà necessario Sentire anche L'altra versione Opposta O comunque Complementare A questa La domanda Poi che uno farebbe Eventualmente Sarebbe Ma Yusuf Ha effettivamente Pronunciato la frase I nordafricani Sono pragmatici Perché Io quello Quella è discriminante Secondo me Comunque Andiamo avanti No poi Come giustamente Qualcuno diceva In chat L'intento di Fishbowl È distruggerlo Questo è un intento Che ovviamente Va condannato A prescindere Ed è per questo Che ho detto Mi auguro Che Anche se so Che non sarà così Purtroppo Che il pubblico Che il pubblico riesca Anche in questioni Così delicate A mantenere Un minimo Di intelligenza E equidistanza Ok Quindi Attenzione Anche a sbattere Il mostro In prima pagina Subito Esatto Mi raccomando Perché Un conto È il suo intento Disprezzabile Criticabile Un conto Poi È effettivamente Il materiale Fatto sta Che scopro Questa cosa qui Perché Un giovedì Va al volt E usa la mia carta Siccome io sono Forte Con i computer E se voglio Ti hackero Anche il buco Del culo Mi connetto Allo stereo A cui era collegato E registro Un suo amico Che parlava E diceva Che praticamente L'aveva invitato Lui Al volt Mi fa E no Sai perché Mi ha scritto Questo un grano E mi ha detto Che aveva gli ingressi Blablabla Oltretutto Sono andata A casa sua Che non hai capito Quella è casa di fishbowl Ma ormai lui è intoccabile Capito Parlano di me Come se fosse un trofeo Aveva fatto entrare Uno sconosciuto In casa mia Io dopo ho controllato Nelle telecamere Di sorveglianza Ho fatto entrare Uno sconosciuto Per flexare Casa mia Dopo che mi hanno rubato Di soldi Tuve entrare Uno sconosciuto In casa E non mi dici Niente Si sa chi è dog Si sa chi è Lo ha esposto Sui social Per molti mesi Magari non seguendo lei Non lo sai Si conosce L'identità Di questa persona Si conosce Era spesso Nelle storie di fishbowl Quasi giornalmente Cazzo parliamo Faccio sa che io scopro Tutte queste cose Gli dico Tu Casa mia Non c'entri più Gli dico Ti chiudo fuori Cosa fa questa persona Alle quattro Con una incinta Che sta per avere Una psicosi Mi sfonda la porta Alle quattro Mi sfonda la porta Di casa E mi leva il telefono Perché io A me è venuto L'attacco di panico Sai com'è Una donna incinta Alle quattro L'aveva inquadrato Anche nella live In cui parlava di taxi Ragazzi Comunque L'influenza Di Nicolò Su fish Praticamente Ha rovinato La sua edizione E poi c'ha Ste calate romane Nicolò Ha fatto un disastro Non insegnare Romanaccio A gente In giro Così poi Così greve Entri Sfondando la porta Da casa Se ne fai in sbatti Il fatto sta che Mi leva il telefono Io lo riempio Di schiaffi Perché dicevo Dammi il mio cazzo Di telefono Fammi chiamare la polizia Fammi chiamare mia madre Lo riempio di schiaffi Perché non ci ho visto più Anche qui ovviamente Che non passi in sordina La violenza Sottolineiamola E niente E niente Poi il giorno dopo Lo caccio Ma non è finita qua raga Non è finita qua Perché io poi Ho scoperto Chiamando quelli del The Club Che quando avevo fatto Quel casino Per difendere Ho scoperto che Sta nella lista nera Di tutti i locali E questo deficiente Mi ha fatto fare Le storie Contro il The Club Anche questa cosa Me la ricordo Forse ne avevamo parlato Fishbowl Fece delle storie Parlando di razzismo Perché il suo ragazzo è nero Parlando di razzismo In relazione a questo club Dicendo Non l'avete fatto entrare Perché è nero Se siete razzisti di merda Eccetera E a quanto pare Da quello che sta dicendo Perché era un Combina guai Perché era nella blacklist Ironia della sorte Del locale Per sua condotta Sapendo che l'avevano Sbattuto fuori Cioè vi rendete conto Di che Psicopatia A livelli proprio Mitomania A livelli estremi Non ho mai visto Una persona Con così tanti problemi mentali Che poi da me Della pazza Ok Praticamente Chiamo quelli del The Club Scopro sta roba Chiamo quelli del Bendo Scopro anche sta roba Lico Lo blocco Lico io con te Non ci voglio più Avrei niente a che fare Prova a contattarmi A fare qualsiasi cosa E veramente ti denuncio Per tutta Tutto lo schifo Che mi hai fatto Ok Oltretutto parlava male Del Cico Perché Si scopava la sua ex Quindi non si fidava Nel Cico Nel dottore Ha cercato di buttare La colpa su di tutti Ok E che tutti i suoi amici Fanno schifo I tuoi amici Non fanno schifo Sei tu Sei tu Cioè i tuoi amici Sono tu Vediamone Magari tutte e due Se lui sia gli amici Il più marcio Il più marcio Cioè Hai buttato addosso la colpa Addosso a Cico Addosso al dottore Dicendo che sono tutti Degli infami Che non ti fidi Che la prima volta Che abbiamo litigato T'hanno sputtanato Al baobab Quindi tu non ci puoi fidarli Di loro Perché dicevano la verità Che mi avevi trattato Come uno schifo Perché hanno letto la verità Oh mio dio Ok Tanto sta che lo blocco Cosa scopro Oggi Mi scrive Una mia fan Dicendomi Che ieri Jimmy Se l'è scopato E non sapeva Che fosse lui Ok Mi scrive una mia fan Mi fa Dopo che ho visto il profilo Feli Cioè io ti seguo Mi sono sentita in colpa E te l'ho detto Io adesso non farò Il nome di questa ragazza Anche perché È stata correttissima Nei miei confronti Cioè tu pensi Dopo io che due giorni Te piscio Sono incinta Oh no ti prego Perdonami Perché io ti amo Tu ami i miei soldi Coglione Tu ami i miei soldi Te scopri una mia fan Quello incinta Dall'altra parte del mondo Che so Ho la febbre Per colpa tua Oltretutto perché Sei andato a ballare Ma di che cazzo Stiamo parlando raga E poi io mi devo stare pure zitta Io spero che tutte le persone Con cui lavori E ma scouting Alex non so cosa Gli rimanderò sti video Perché tu Smetti di lavorare Perché tu hai cercato Di rovinare la mia esistenza E nessuno fa così con me Io rimarrò sterile a vita Per colpa tua Razza di schifo Ma ci rendiamo conto Tu mi hai rovinato l'esistenza Tu adesso non esci più Da nessuna parte E infatti pure difendere Dai tuoi amici Che infami Sono dalla mia parte I tuoi amici Sono dalla mia parte Perché non hanno mai Che sono uno schifo del genere Hanno ragione Fatti due domande Se danno la ragione a me Fatti due domande Adesso Dato che io non dico cazzate Dato che io non dico cazzate Mettiamo gli screenshot Mettiamo gli screenshot Perché io Raga sono stata anzitta Per tre mesi Ho subito uno scempio Per tre mesi Cioè Questa persona mi ha messo in cinta Apposta per incularmi i soldi Tutte sta roba qua E poi vai Cioè metti in pericolo La vita dei tuoi figli E poi io no Devo stare zitta Sapete cosa mi ha detto oggi Quando gli ho detto Tu Tu ti sei finito Ti sei finito Tu Mi vuoi rovinare la vita Tu Tu mi vuoi rovinare la vita Tu paghi le conseguenze Le tu azioni Tu hai cercato di rovinare la mia E nessuno lo fa Nessuno lo fa Con Felicia Adesso mettiamo gli screenshot È quello che vuoi Mi vuoi rovinare la vita Rovinami la vita Vuoi vedere cosa ci vuoi darmi Cioè Cosa mi vuoi fare Cioè Vuoi rovinare la mia vita Ti sto dicendo Quella tipa Io non ci ho fatto Un cazzo Capito Maggio mi ha detto adesso Che ci ha parlato E quella tipa Adesso mica Che si sta inventando le cazzate Perché vuole solamente Capito così Così a caso Ma che cazzo è Jimmy Troppo tardi Ma hai passato tre malattie Sessualmente trasmissibili Alla trina del merda C'è il cazzo più sporco È un cesso De un autogrill Ma che cazzo vuoi fare Ha schifo mano Ha schifo mano Ripigliati Ma hai passato tre malattie Sessualmente trasmissibili Hai messo incinta apposta Ma hai rubato in casa Hai fatto entrare sconoscita a casa mia Ma hai sfondato la porta Alle 4 di notte Con me incinta Mi hai fatto chiamare gli sbirri Hai usato la carta di credit Del mio ex Per rubarmi i soldi De Uber Perché sei un poveraccio E adesso lo sapranno Tutti Uuuu Che vuoi fare Ha schifo mano Ha schifo mano Ripigliati Ma hai passato tre malattie Sessualmente trasmissibili Hai messo incinta apposta Ma hai rubato in casa Hai fatto entrare sconoscita a casa mia Ma hai sfondato la porta Alle 4 di notte Con me incinta Mi hai fatto chiamare gli sbirri Hai usato la carta di credit Del mio ex Per rubarmi i soldi De Uber Perché sei un poveraccio E adesso lo sapranno Questo è uno dei primi messaggi Che gli ho scritto Quando l'ho bloccato Ok Cioè a prova delle dimostrazioni C'ho anche tutti i messaggi De scuse De Cioè ma Raga ma di che cazzo Stiamo parlando Ma di che cazzo Stiamo parlando Cioè Ma di che cazzo Stiamo parlando Io dovrei stare anche zitto Dopo uno scempio Vi lascio leggere intanto Vi lascio leggere Intanto Perché io non dico cazzate C'ho anche messaggi De mille scuse No ma perché Fai così E no ma perché Fai con la Ma perché Cioè ma Io non mi faccio Non mi faccio fottere Io non mi faccio fottere Sono proprio la persona Più sbagliata A cui cercare di fregare Perché io ti do Tutto quello che ho Ma se tu Se tu cerchi Di rovinarmi Io ti finisco Io divento il tuo Inferno peggiore Perché se il karma Non ti arriva Ti faccio arrivare Tutto il karma Nelle tue 57 vite precedenti Dritto nel culo Forse sta roba non è chiara Forse sta roba non è chiara Dello schifo Che ho dovuto subire Che è sciacca di virgo Praticamente Ma ci rendiamo conto Di che schifo Ma ci ha pensato Che se l'ha con me Io non lo so Questo se ti incolpo Cioè vi faccio leggere tutto 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 Faccio fidarmi No Marco no Sei contrito Marco Non l'ho mai visto In queste condizioni Assistenti sociali Robbe Cose E io non voglio più Avere a che fare Con questa persona Mai più Mai più Perché uno Che mette a rischio La vita di un bambino Per andare a ballare Ma io non te lo faccio vedere Manco col binocolo Preferisco rimanere sterile a vita Preferisco rimanere sterile A vita Cioè raga Io non so se vi rendete conto Dello scempio Che ho subito Negli ultimi mesi Dal mio ex Che mi punta una pistola Mi minaccia Dal suo amico Che mi minaccia di morte Cioè Ah Il mio nuovo tipo Che mi ruba in casa Mi mette incinta apposta Per incularmi i soldi E poi se scopo una mia fan Mentre io sono incinta A charm Ma di che Sto parlando raga Cioè un'altra persona Al posto mio Io devo ringraziare Che veramente Ho due coglioni grandi Come una casa Come una casa Ok Perché un'altra persona Al posto mio Popo boom Sera già incinta Da qualche parte Cioè Io non so se vi rendete Non lo tengo Non lo tengo Ma secondo voi Tengo Io non ci voglio più Avere a che fare Con questa persona Sto una merda Sto una merda Ma io voglio che L'Italia sappia Che scempio Sto subendo Da chiunque Poi mi dicono Perché sono così Incazzata con gli uomini Io sono una persona Rispettabile Io veramente Cioè mi sono fatto Un culo così Un culo così Ma di che cazzo Stiamo parlando raga Ma di che cazzo Io non mi merito Sta merda Martina Scusami Perdo Ma io come Ho spiegato prima Perché Martina scrive Sterile O ha il bambino Allora Lei Da quello che ha detto Ha già Scelto di Di abortire una volta E i medici Ai tempi Le dissero Se abortisci di nuovo C'è una grandissima Probabilità Che tu rimanga Sterile a vita Quindi senzalmente Sta dicendo Io non voglio tenerlo Perché non voglio Avere un figlio Con questa persona Quindi probabilmente Resterò sterile a vita Faccio fidarmi Nella persona del genere Ma grazie al cazzo Che adesso sto bambino Non lo voglio tenere Sapete perché? Perché purtroppo Ci dovrà passare Per assistenti sociali Robbe Cose E io non voglio più Avere a che fare Con questa persona Mai più Mai più Perché Uno che Mette a rischio La vita D'un bambino Per andare a ballare Sì in questo momento E' incinta ancora Sì sì Da tre mesi Se ho sbaglio Da due mesi e mezzo Non lo faccio vedere Manco col binocolo Preferisco rimanere sterile a vita Preferisco rimanere sterile A vita Cioè raga Io non so se vi rendete conto Dello scempio Che ho subito Negli ultimi mesi Dal mio ex Che mi punta una pistola Mi minaccia Dallo Ciao Mi sono andato indietro per sbaglio Una merda Ma io voglio che L'Italia sappia Che scempio Sto subendo E adesso sterile a vita Schifo Schifo Umano Sia Mo metto altri screenshot Perché poi sembra che dico cazzate Ma io non dico mai cazzate raga Mai Cioè Può abortire Comunque rischio lì Un tempo Mi pare in Italia Cento giorni Non sbaglio Mi pare Dicevano 12 settimane Il gioco rilanciato Non so quante sono Aveva fatto sta No 12 settimane Quattro mesi No Sono circa tre mesi E qualcosa Tra i 90 E i 100 Qualcosa Sì sui 90 giorni Il numero preciso non me lo ricordo Comunque più o meno tre mesi Saranno i termini Saranno i termini Poi in realtà Ci sono anche delle eccezioni Nel caso in cui Si dimostrasse Stupro per dire O A casi eccezionali Oppure magari Se ci stanno malattie gravi Che possono Esatto Sì O anche il rischio Che possa morire Esatto Il rischio della madre Ci sono delle eccezioni Comunque Questi sono cazzi suoi Della settimana specifica Conto Grazie 2, 7, 11 Ma questo è In shot di quello Gli ha scritto lei Va bene Mi pare in coglione Ma di che cazzo Stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando E io ve lo giuro raga Cioè che È un mese È un mese Che avverto questa persona Gli dico Non portarmi al limite Elisa lo sa Perché C'è qua che gli dico Non fare cazzate Perché io Non sto facendo niente Però se È giusto 90 giorni Sono volontarie Cioè Interruzione volontaria Della gravidanza E poi Possono subentrare Le fattispecie Che vi citavo prima Per sbaglio Per sbaglio Caghi fuori dal vaso Vabbè Comunque questo è Vediamo il post Che vi citavo prima Sì poi Ci sono Gli anti-abortisti In Italia Lo sappiamo Allora Allora Mi scrivi gentilmente Fishbowl Gianno Grazie Seum 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 Mi può spiegare brevemente Please No non sta parlando di taxi Sta parlando del suo ultimo ragazzo Di Uber Allora Oltre che ladro Anche stupratore Eh no Vabbè Qua però Ok Orgogliosa di aver dato il coraggio D'altre donne Di parlare e denunciare gli abusi E lo scempio che hanno dovuto subire Da questa persona Ripeto Mani avanti Questa non è la verità Questa è la versione di Fishbowl In questo caso Di un'altra ragazza evidentemente Comunque va ascoltata Come tutte le testimonianze pubbliche Ascoltiamo Io stavo dormendo E è successo che Io mi sono messa a dormire Mi sono messa a dormire E è arrivato lui Che non so che cazzo aveva Cioè mi sono svegliata Mi ricordo che mi sono svegliata E lui continuava a toccacciarmi A toccacciarmi Io gli dicevo di no Che non volevo E stai così qua E lui continuava Continuava Io ad una certa Mi sono messa a piangere Non ho capito un cazzo Che cazzo faceva Allora è arrivato là Non so che aveva Cominciato a toccacciare A toccacciare E poi quello come faccio io con te Mentre dormiva questa ragazza Mentre questa ragazza L'ha svegliata Nel senso ha cominciato A approcciare E lei Insomma si mostrava infastidita E poi dice che non c'è tutto E l'ha anche messa a piangere Mi ha mandato una cosa Palle uomo Deluzione volontaria di gravidanza Un po' Di necologo 90 giorni di gestazione Per motivi di salute Economici Sono familiari Ok 7 giorni In stanza di urgenza Ok Vabbè sì E quello che avevamo detto 90 giorni 90 giorni Due tecniche Vabbè Farmacologico Chirurgico 2020 Il ministero della salute Ha diffuso la circolare Sull'aggiornamento Delle linee Di indirizzo Sull'interruzione volontaria Di gravidanza Fino a 63 giorni Pari a 9 settimane Compiute Presto strutture Ambulatoria pubblica Ok Interruzione volontaria Di gravidanza Attraverso il metodo chirurgico Vabbè sì sì Quindi 90 giorni Vabbè ripeto Con determinate eccezioni 90 giorni È quella volontaria Dunque qua siamo Raga Qua diventiamo ufficialmente Coinvolti nella storia Perché sapere che Simone È stato molestato Da sta persona E questa è la voce di Simone Cioè Raga L'hai risentita mille volte Come lei ha plurrato Anche per voi di famiglia di gestione Oltre 90 Non puoi farlo volontariamente Eh Dismatterla che non volevo Ne ha tolto i pantaloni di forza E Cioè Ne ha pure tenuto le braccia Così non riuscivo a Rispingerlo Sto così qua E nulla E poi ha fatto quello che ha fatto E io piangevo E non gli ha pregato un cazzo E quando ha finito Si è messo a dire che È successo Perché Tra le due c'è intesa Ma non è vero Te lo giuro su mia madre Che non è vero Poi Si è messo a dire che c'è intesa Che abbiamo sbagliato Entrambi Sia da parte sua Che da parte mia Si è messo a dirmi Perché piango Perché non voglio No bro Non hai sbagliato Lei involeva E te ha insistito Quindi Se è vera sta roba Un bel pezzo di merda Questa Allora Questa ragazzi Cos'è È Di fatto una testimonianza Di una ragazza Diciamo con la voce Ovviamente Censurata Se questa persona Fosse vera Inequivocabilmente Uno stupro Si si Anche se magari Questa persona Perché tanti dicono Perché allora Non l'ha denunciato Perché probabilmente Si è sentita Il discorso che dicevi tu È il discorso che dicevi tu Perché abbiamo sbagliato entrambi Poi c'è ovviamente Il meccanismo di manipolazione E te ne autoconvince anche te Perché è più facile Prendere quella strada Per chiunque Non andarsi a inerpicare In un percorso In cui Dovrai Magari testimoniare Dovrai andare a processo Dovrai guardare in faccia Con la persona Con la paura Magari che questa persona ti fa E dover dire Di fronte all'autorità Tante persone Addirittura denunciano Poi succede E ad amiche mie È successo Con ragazzi Con cui avevano Relazioni abusive E poi andavano Effettivamente a processo E di fronte Tornandosi di fronte A una corte a testimoniare Negavano Dicevano No me sa che me so sbagliata E ritrattavano Quindi regà Per varie motivazioni Vergogna Poi ripeto Questa è Tanto lo ripeterò Fino allo spinimento Perché su queste cose Sono maniacale È giusto esserlo È una testimonianza Di cui va preso atto Probabilmente Non lo so Se questa persona Finirà anche in un processo Magari sarà chiamata A testimoniare Non lo so Sicuramente è una cosa Che va tenuta in considerazione Poi bisognerà dimostrarlo In qualche modo Ovviamente Esattamente come tutto ciò Che ha detto Fishball Perché comunque Prover non ne ha mostrato Le conversazioni loro Non hanno valenza Però non cadiamo Nella solita retorica Perché ne ha denunciato Perché non è facile Ma infatti No 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 Però è una cosa grave comunque È una cosa È una cosa gravissima ovviamente Tra l'altro Questa non è neanche Un'accusa pubblica Fatta dalla ragazza Questo è un audio Mandato in privato A Fishball Che Fishball ha reso pubblico Quindi Questa non c'è Una volontà maligna Della ragazza In questione In ricerca d'attenzione 22 guarda Allora io mi ricordo Perché l'ho vista prima La diretta Ha detto Certo che lo denuncio Rispondendo al commento Certo che lo denuncio Certo che lo denuncio Poi è un po' schippato Quindi magari me lo sono perso Però c'è il video Guardatelo Vai Marco Dicevi No che magari Non perché Malfiducia della ragazza O niente Soltanto vista la condizione De rabbia De lei che ha detto Te voglio rovinare Te voglio rovinare Bisogna un minimo Forse calcolare Il minimo dubbio Che forse potrebbe pure essere Una cosa Un gesto di rabbia Per cercare di rovinarlo Ancora di più Magari Ho capito Però se lei Certo che è arrivato Non dico che è falso Parleremo De prove artefatte Che sarebbe un'altra roba Diciamo che è altamente Falsificabile Facilmente falsificabile Non dico che è falso Sì questo è vero Però pure questa Anillazione Facilmente falsificabile Un audio da mandare A una persona Se vuoi rovinare uno Però Insomma Poi diventa Però poi Capito Sindacabile Ogni singola prova Là pure nel caso Matteo Saba Diceva Abbiamo arrivato Sto documento Diceva Forse è stato prodotto Cioè Uno deve anche avere Un minimo Sì sì Quello Chiamiamo la sospensione D'intedulità Quando vedi Soltanto una versione Delle prove Perché devi Almeno seguire La storia Per capire La narrazione Vuole darti Una campana La minaccia De ti voglio rovinare Un po' dei dubbi Potrebbe farli venire Quello soltanto Però Sicuramente Magari è tutto vero Non ci stanno prove Da nessuno dei due lati Non sappiamo Se È anche vero Che nei casi Di molesti O stupri È molto difficile Portare prove Marco Ovviamente È per questo Che è complesso Un processo Di questo tipo Da entrambe le parti Cioè Sia dal potenziale Dal potenziale Uomo Che viene accusato Ingiustamente Di stupro Di molestia Perché è difficile Dimostrare il contrario Sia da parte Di una donna Realmente molestata O stuprata Che Difficilmente Può riuscire A dimostrarlo Perché ovviamente Non è che se filma Magari Mentre sta a letto A dormire O fa sesso Con una persona E poi decide All'ultimo Di rifiutare Quel tipo di rapporto Vallo a provare È molto complesso Infatti qua Ci vorrebbe magari Francesca No questo Questo è verissimo Un avvocato Un giurista Insomma che possa Spiegarci bene Ma è uno dei rami Più complessi Questo Esistono Cioè Pure il fatto Di rendersi conto Il momento In cui ci si rende conto Di aver subito Uno stupro Può avvenire Anche A mesi di distanza Anni di distanza Ci sono anni di tempo Addirittura E più Passa tempo Più diventa complesso Sia dimostrarlo Che ricordarsi Tutto Sia effettivamente Andare a configurare Che non sia Una volontà Di diffamazione Della persona È complicato Di entrambi i lati Però ovviamente Non bisogna Cadere nel fatto Di dire Eh beh Te svegli mo Perché potrebbe succedere Ci potrebbe essere Anche un intento Obbinatorio Su questo invece La legge è molto precisa La legge ha Allungato moltissimo I tempi Per le denunce Di questo tipo Proprio per dare tempo Anche di metabolizzare A volte c'era La negazione Addirittura Molte donne Quasi dimenticavano Completamente Quel momento La giustificazione La paura La vergogna Anche il caso Vi ricorderete Di Grillo Il figlio di Grillo Sì sì Ah sì Magari riescono A metabolizzarlo Soltanto in seguito A una terapia La terapia Poi arrivano A terapia Con lo psicologo Gli aiuta A tirare fuori A togliere Quella rimozione Esatto Sì Ma non basta pure anni Sì Posso dirmi Se hai qualcosa Puoi dirmelo O queste cose qua Allora Ah no Questa è finita Una volta Mi ha praticamente Obbligato A lasciare Un suo amico Da solo Che dormiva Al Mac Dicendomi di andare via Io e lui A casa di dottore Ritorna sto dottore A riposare Dopo una serata Quindi era mattina Abbiamo fatto Tutta la strada Con i mezzi Arriviamo lì E non ci apre Nessuno ci apre Perché non c'era O dormiva Non ricordo Quindi ci mettiamo Tipo in uno stanzino Pieno di sedie Del condominio E cercava di scoparmi Dopo un po' Che non volevo Si è messo a dormire E mi ha lasciato Andare via da sola Che non sapevo neanche Dove mi trovassi Con il vestito ancora E lui è rimasto lì Sulle sedie a dormire Oppure anche un'altra volta Io e una mia amica Eravamo usciti Da una serata Non sapevamo cosa fare Quindi Jimmy Ci ha proposto di andare In una trap Eravamo stanche Allora siamo andate Dormiamo E la mia amica Al mattino si sveglia Dicendomi Che nella No sotto Che nella notte Era successo qualcosa Si era svegliata Con le mutande Tutte spostate Io mi ricordo Che Che prima di dormire La sentiva Che diceva Jimmy basta Non voglio Frasi del genere Non so cosa Si è successo di preciso Ma mi sembra Che gli abbia fatto qualcosa Contro la sua volontà Ci svegliamo E non troviamo più telefoni Nel mio Nel suo Eh ci stanno Tanti mi sembra Ovviamente La situazione È una situazione Molto particolare Questa purtroppo È una situazione Particolarissima Poi voglio soffermarvi Invece A questa È una situazione Che ovviamente Viene stigmatizzata E tu vai da una La prendi nel sonno Puramente sta ambriaca È stigmatizzata da tutti Ma anche la situazione precedente Nel senso Che ne so Scopiamo Se no Vaffanculo Te ne torni a casa da sola Pure i sabbi di lontano Oppure Vattene fuori da casa mia E mo' arrangere da sola Messa come condizio Sine qua non Ragazzi Anche quello Cioè Ne ho viste tristemente Troppe Di queste Che succede Anche quello È da persona Vomitevole Che proprio Deve vergognarsi Eh sì È una violenza Pure quella È una molestia Ma porco due È una violenza È una violenza È una violenza È una manipolazione Psicologica Psicologica Dicono di guardare le storie Vediamo Anche questo Jimmy Io non ho cuore Tu mi hai rovinato la vita Ma hai reso sterile La vita Mi hai messo incinta Mi hai rubato in casa Raga io sono veramente sconvolta Perché mi ha scritto una ragazzina Perché poi è primo Lo stesso video mi pare spezzettato No 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 questa è un'altra cosa Raga io sono veramente sconvolta Perché mi ha scritto una ragazzina Perché adesso stanno scoperchiando tutti I vasi di Pandora Delle persone a cui ha fatto Schifezze Mi ha scritto una ragazzina Di 15 anni Di 15 anni Che è stata violentata Da sto scempio Io veramente non ho parole Cioè oltre che ladro Sei anche stupratore Di bambine Ma che cazzo è Praticamente io stavo dormendo E è successo Raga comunque Dottore Amin Yusuf In questa storia Non c'entrano niente Anzi Sono miei amici Loro si che si sanno comportare Si comportano bene Non c'entrano un cazzo Questa storia Ho dimenticato pure Non avevo ben capito Il discorso No anche il discorso Della minorità Me l'ha sfuggito C'è questo gruppetto De persone Che io non riesco Non ce la faccio Ma no ma Sono stanco morto Andiamo avanti Però devi ammettilo Ma andiamo avanti Andiamo avanti A me fa male la lingua E ci stanno i segni dei denti Eh dai Io capisco tutto Cioè Mi sono espresso in termini Veramente Molto specifici Ma poi non c'entrano niente Sì però dei condanna Cioè mi sono espresso in termini Di condanna verso l'accaduto E anche in termini Particolari Ok Che sta roba sia chiara Sia chiara Perché mi stanno scrivendo Che gente non capisce Le robe che sono successe Blah 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 bluh 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 Loro non c'entrano Nulla Nulla C'è niente Anzi Si sono comportati Di Cristo con me Vabbè Ok Raga mi stanno veramente Scrivendo mille ragazze Del quali io la conferma Non è gente che vuole Cloud Perché sono persone Che io Ho modo di conoscere Nella vita reale Che conoscono altre persone Che praticamente io Quando la prima volta Mi ha rubato in casa Ho mandato delle persone Poco raccomandabili A controllare Quello che facesse E quello che ho scoperto È che aveva fatto delle cose A delle ragazzine E gli aveva rubato i telefoni Adesso queste ragazzine Mi hanno scritto Dandomi conferma Di quello che io Avevo scoperto Il tre Però lui negava Diceva No non è vero Non è vero Sono tutte cazzate Io adesso Questa è una cosa particolare Nel senso che Lei sta dicendo Io avevo già sentito Questa storia Ma all'epoca Non l'ha presi per vera Ok Adesso mi hanno scritto Direttamente loro Dopo La mia Diciamo Denuncia pubblica Confermando Quella cosa Che io non avevo detto A loro Quindi diciamo Che sono tornate Le due versioni Non è una conferma Neanche questa Però diciamo È un pezzo Però c'è anche Un'altra cosa importante Abbiamo visto Scritto A schermo Stupratore pedofilo Siccome questa persona È facile identificarla Anche da storie Che lei ha fatto In passato Quindi sappiamo Di chi si parla Questa è in caso Comunque De cogna mediatica In assenza Di Evidenza dei fatti Anche questa Molto molto grave Non ci si può esimere A dirlo Perché tu puoi anche Pensarlo Puoi anche procedere Per fare in modo Che questa persona Sia punita Per questi reati Ma senza La controprova Esatta Di quello che sta dicendo Scrive pubblicamente Questa persona Ragazzi È uno stupratore pedofilo Col potere mediatico Che hai Assolutamente Tu puoi denunciare Perché sei in prima persona Te ne prendi la responsabilità Anche di dire qualcosa in più Però sei letteralmente coinvolta Se ti hanno raccontato una cosa E tu dici Questo è un stupratore pedofilo Te fa una cosa molto grave E rischi che la persona Possa trovarsi Anche a subire Violenza Anche reale Da altre persone Amico Un comune Arriva là Pesto de merda È stupratore una ragazzina E lo ammazzano de botte Diamogli la possibilità D'avere un processo Sacro santo Sacro santo Sottoscrivo ogni parola Contattato le ragazzine A cui è successo E io gli screenshot Del 3 Dove appunto Dicevo che avevo scoperto Queste cose Questa è quella Che abbiamo visto prima C'è il Mac Comunque ragazzi Non scrivete Roba all'agenzia Con cui la Poi ragazzi Cioè Questa è un'altra parentesi Perché Alcuni commenti Mi sembrano veramente Cioè Ma che cazzo C'entra Che è nero Ma che cazzo C'entra L'80% Dei miei amici Sono neri E non fanno ste cose Non c'entra niente Non c'entra Un cazzo Di niente Come se fosse Il primo nero Con cui sono stata Sono stata fidanzata Con tre 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 neri Mai successe Ste robe Semplicemente Lui Che è una merda È una merda Quando vivevo in America Lo sapete Cioè L'avete visto Con chi vivevo Onesto Non c'entra un cazzo Non c'entra un cazzo Che è nero Non c'entra un cazzo Che è quello Sono amici Sono bravissime persone E io Ho L'80% Di miei amici Sono Onere Questo Chiaro Ragazzi Grazie mille Per averci seguito Attenderemo sviluppi Sua vicenda È comunque Grave Sinceramente Mi ha un po' Intristito Soprattutto questa parte Questa parte Non l'avevo vista Perché Sono uscito Mesa Durante la live Dei componenti Qui Sono accuse Tra le più gravi In assoluto Dopo la strage mondiale Praticamente Quindi Staremo a vedere Sì Qualcuno diceva Una sorta di Fish Tu Sì Un po' Una sorta di Mi tu Anche quello Infatti A tratti Secondo me È stato Sbagliato Per il concetto Di mostro in prima Pagine Non tanto Weinstein Quanto Le implicazioni Del caso Però Ha avuto anche Degli effetti Positivi Nel senso che Effettivamente Poi questa persona È stata allontanata È una persona Che è stata coperta Da un sistema Hollywoodiano Per tanto tempo E Diciamo che Nella fattispecie Del me tu Sono successe Le cose che dicevi Quindi la paura Di denunciare Lì c'era anche Una componente Di status Di potere economico Quindi che Avrebbero reso Poco credibili Le singole testimonianze Ma è successo Anche nel caso Per esempio Molto più recente Di Marilyn Manson Che però In sede di processo In sede di Insomma Raccoglimento di prove Tante persone Sono aggiunte In una sorta di me tu E hanno anche loro Fatto accuse gravi Ma non fatte in maniera pubblica Così perché poi Rischi anche Di togliere peso Magari agli occhi Di Un giudice Che si sofferma Più sull'atto tuo Rischi di togliere peso Ad accuse Sacrosante Che stai facendo Perché In questo momento Questa persona Magari Credendo in una sua certezza Che certe cose Non verranno mai fuori O Volendo affrontare appunto Una lite temeraria Come diciamo sempre Potrebbe anche dire Lo sai che faccio Qua ci stanno gli estremi Per poterti querelare E farti pure male Perché sono certo Che magari tu Determine cose Non possa provarle Certo Perché A mezzo pubblico Con attenzione del genere Stupratore Pedofilo È l'accusa più grave Che si possa fare in Italia In questo momento Pedofilo più di stupratore Di minori tra l'altro Sì stupratore E pedofilo Nel senso In maniera coadiuvata Tu praticamente Hai Annichilito La vita pubblica Di qualsiasi persona Al cento per cento Ragazzi Sì 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 Ma infatti Soprattutto poi In momenti Di estremo stress No Rischi di prendere Una cantonata Prendi per buona Una cazzata Una mezza verità Eccetera Che poi invalidi totalmente La denuncia sacrosanta Infatti io Tendo sempre a Avere molta paura Delle persone Che si comportano In questo modo Soprattutto In seguito Durante le relazioni Ho molta paura Delle persone così Perché Ovviamente Si mischiano cose vere Cose che sono magari Parte della tua percezione Voci di terzi E si crea poi Un polverone gigantesco Dove tutti escono Distrutti Distrutti Perché anche Fishbowl Non esce bene Da sta storia Ovviamente E poi qua Parliamo neanche Di una relazione problematica Parliamo di accuse Che abbiamo citato E poi qua c'è anche Una scarsa lucidità A caldo Nel descrivere I fatti E nel modo che si utilizza Qua tutti avrebbero bisogno Di un amico O di un'amica E in quel momento Dicono Lascia perdere Poi è un comunicato Se vuoi fai un comunicato Fai un comunicato Ragazzi Io Insomma Ho subito delle violenze Da parte di questa persona Poi magari Ci sarà un processo Denuncerò questa persona In più So di alcuse molto pesanti Nei suoi confronti Che devo valutare Ovviamente È facile dirlo da esterni Questo certo Diciamo che Se noi abbiamo Un minimo senso In questa trasmissione È cercare di Dare un minimo messaggio Su una condotta ipotetica Poi tra il dire e il fare Ragazzi C'è un universo Come dire Non devi mai Entrare In una violenza Però il consiglio È se voi state portando avanti Una battaglia sacrosanta Entro i limiti Dove riuscite Provate a metterla giù Anche se volete farlo pubblicamente Vi prendete quella responsabilità Perché è una scelta personale Che uno fa Nel piano delle proprie facoltà Sempre se quel momento È nel piano delle proprie facoltà Insomma da qualsiasi punto di vista Però cercate di metterla giù Nel modo che vi renda Il più inattaccabili possibile Perché se tu Per fare una denuncia sacrosanta Commetti altri 800 illeciti Poi rischi veramente Che il problema principale Si sposti da un'altra parte Agli occhi De un esterno Levata l'intenzionalità Cioè se veramente Una persona decide Di diffamare pubblicamente Una persona con cose false Quindi levata l'intenzionalità Io qua vedo più impulsività Certo Poca lucidità C'è l'enorme rischio Al di là di quello che dici tu Cioè sbagliare proprio il tono Che secondo me Rientra nella live che abbiamo visto Quindi ha buttato Cose che non c'entravano un cazzo L'ha attaccato in modo brutale Ma qui entriamo proprio In un altro campo Che non si parla neanche Di linguaggio Non si parla neanche Di tatto Non si parla neanche Di scarsa lucidità Si parla di qualcosa Che se per sbaglio Prendi una cantonata No so cazzi Cioè te ne accorgi Quella persona A livello reale Ti può fare veramente male E ripeto abbiamo Il caso recente Di Amber Heard e Johnny Depp Una storia Intricatissima Che è diventato Uno show mediatico Quindi attenzione Poi Staremo a vedere Ragazzi perché poi Veramente Sul web L'utilizzo Di certe parole Purtroppo anche Di indicizzazione Difficilmente scompare Difficilmente scompare Ed è difficilmente L'algoritmo Non è ragionevole Se Viene fuori Davide Marra Accusato di stupro Un articolo Poi il giorno dopo Respetta tutte le accuse Davide Marra Non è uno stupratore Poi nell'algoritmo Rimane Davide Marra Stupratore Spesso e volentieri La parola Verrà associata E tu ti ritrovi Con un cazzo Di problema Che magari Non tutti Hanno i mezzi Per affrontare Quindi Figuratevi che Casualmente Citavo Delle false Cose Che purtroppo Vengono Ribalsate giornalmente Tra i vari commentini Dei freebooter Cioè tipo Sì il cerbero È solo dissing Che è una stronzatina Però è la percezione Pubblica Che rimbalza Da un commento All'altro Di gente Che magari Non segue E quindi Fa copia e incolla Sì il cerbero Quello del dissing Quando degli dissing C'è manco l'ombra Esatto Figuratevi Per una cosa seria E non per cazzatine Del genere Ci sono persone Che effettivamente Hanno completamente Perso La loro immagine pubblica Per accuse Infondate O addirittura Accuse poi Che sono state Completamente Smentite Quindi Attenzione Poi certo Ripeto Staremo a vedere Caso in cui Ci fosse effettivamente Una violenza Di questo tipo Mi auguro Che questa persona Marchisca In carcere Ma questa È ovvio Insomma Che sconti La sua pena Come in uno stato Di diritto Che non dovrebbe Prevedere La cogna mediatica Questo è Al massimo Che ne so E il gastolo Se si parla Di stupro minorile Chiaramente E tra l'altro Quei in isolamento Dei annasi E no Te fanno pure Fuori In calenca Chiaro Chiaro Va bene Ragazzi Grazie mille Noi ci vediamo Domani alle 15 Caricate tanto materiale Su reddit Buon fine settimana Io domani alle 15 Riposo Quindi noi ci vediamo Lunedì Buon weekend A tutti Dai eh Posso provare una cosa Al volo C'è proprio Così eh Proprio estemporanea Cerbero Te non hai capito Te non hai capito Con chi c'hai A che fa Perché raga La vita La vita è una giungla La vita è una giungla Quindi Cerbero Raga Veramente Veramente Marra Cerbero Io te No Ce sta L'ho provata Oggi pomeriggio Al volo Eh Mo ce la Lavoro Natti Ce sta Guardate Manca poco È un po' troppo Belen Rodriguez Ciao ragazzi Ciao Ciao Che squali State arrivà Hello Crosshack Scusate! state pure registrando tutti al bagno